amici di Inter fan tv cuori forti fortissimi dei razzurri bentornati bentornati a Michele Borelli a un nuovo appuntamento con Obiettivo Inter eh scusate in ritardo per chi ci segue in diretta poi ovviamente potete recuperare la trasmissione anche on on demand trasmissione di giovedì siamo tornati al giovedì l'Inter giocherà di lunedì l'Inter giocherà di lunedì e quindi non è una vigilia non è un'antivigilia possiamo parlare con calma e con serenità quella che non c'è stata nel pre di questa trasmissione è successo di tutto saluto anche l'amico Alessandro Petrone da Vieste che era collegato con noi ma c'erano problemi problemi di audio e come avete visto anche in settimana ieri sera è successo di tutto su WhatsApp e poi eh anche su altri social insomma la tecnologia fa ancora qualche scherzo ma ci siamo ci siamo Gaetano dice no no Gaetano aggiorna perché adesso vedo anche l'audio sì sì l'audio c'è quindi ecco qua lo scrivo anche per chi non ha aggiornato giustamente che era collegato da prima e non ci ha visto e stava attendendo dovete aggiornare aggiornate aggiornate ci siamo ci siamo per commentare quello che è l'avvicinamento al giorno dei giorni come ormai dico spesso per citare un grande interista Liga Bue Alessandro Scanziani con noi carissimo Alessandro benvenuto bentornato un abbraccio grazie mille dell'invito sai che mi fa sempre piacere parlare di calcio in generale e in questo caso dell'Inter in particolare a mia eh lo so lo so grande Scanziani funziona tutto dice Andrea Polco eh sì adesso noi quattro ma non lo diciamo forte perché se no viaggio Privitera vi apri cinquantotto caro viaggio bentornato benvenuto su Interfan TV grazie buonasera Michele buonasera ai due Alessandro a tutti coloro che ci seguono sempre un piacere essere qui ecco forse il problema è stato che ho invitato tre Alessandro allora erano troppi fino a due sì tre sono troppi Alessandro Iovane da Miami ciao Alessandro ciao ragazzi grazie che ore sono da te allora perché qui sono quasi quattro e mezzo qua ok quindi sei ore di adesso abbiamo l'ora legale anche qua abbiamo messo un'ora in più qua buio più tardi la primavera sta arrivando perché un giorno sì un giorno no settimana intatti vi dicevo come mancini avevo perso anch'io la voce ma ci siamo allora entriamo nel cuore del degli argomenti perché abbiamo parlato tanto in settimana di avvicinare questo grande giorno potrebbe essere ad aprile quindi caro viaggio che ci accompagni con il countdown da un po' senza nessuna scarapanzia oggi ho seguito anche le tue storie e si può avere la coppa dello scudetto già aspetta prima che mi rispondi allora come Silvana la liberiamo perché mi devo mordere la lingua e non dire niente non dire niente facciamo la foto guardate il vostro dispositivo e pensate al gol di Turam nel derby dell'andata magari anche in ottica derby del ritorno c'è questa possibilità di avere la coppa dello scudetto è una copia veramente molto bella è vero si guarda ho avuto l'opportunità di conoscere un artigiano molto molto bravo che fa riproduzioni ma fatte davvero di alta qualità sono ognuna grande circa così diciamo quanto un palmo quasi e praticamente di tutte le coppe dell'inter ha fatto in passato e sta preparando adesso la coppa dello scudetto con tanto di targa uguale alla targa ufficiale io ti dico che contro ogni scarapanzia ne ho già ordinate due una per me e uno per mio figlio da mettere già da lui ho comprato tra l'altro quella della supercoppa che abbiamo vinto recentemente a a riad e quindi ho offerto a tutti quelli che seguono il mio canale la possibilità di mettersi in contatto ovviamente faccio solo da tramite non ho nessun interesse economico nella cosa ma solo l'interesse che quanti più interessi possibili possono festeggiare magari anche con una copia della della coppa in miniatura però fatta proprio artigianale fatta bene proprio con un processo galvanico riproduce i colori della coppa molto molto bella appena mi arriva è vero poi diventano comunque coppe storiche nel senso che ci affezioniamo però io credo che di fantasia si poteva fare anche qualcosa in più io parlo di disegno no anche la coppa italia la coppa dello scudetto ma stessa coppa UEFA oggi Europa League in Sud America fanno di quei trofei che secondo me sono super spettacolari a me piace molto la coppa dei campioni la Champions League che anche quella è abbastanza semplice devo dire si potrebbe fare di meglio tu che dici Alessandro tu hai alzato la coppa Italia con l'Inter nel 77-78 adesso entriamo nei discorsi di campo che ci interessano di più e anche di programmazione tutto quello che è previsto però sono curioso se mi dai un minuto neanche vado a prendere la coppa sorpresone qua eh grande grande però no Alessandro invece giovane in questo caso per gli sport americani per esempio no forse si sbizzariscono un po' di più eccola qua questa è la coppa che ho vinto con l'Inter che ci ha regalato la società ad ogni giocatore wow e però è piccolina non è come quella dice il tuo amico questa è la seconda la seconda coppa Italia della storia l'Inter ne ha vinte con quella dell'anno scorso nove aggiorniamo perché tanti riportano anche in questi giorni non so vi anche se l'avevi notato e l'Inter ha vinto forse il primo scudetto quest'anno due supercoppe italiane hanno una contabilità ce ne hanno vinti così ne abbiamo vinti così tanti tanti in questi anni che se ne sono dimenticati se ne sono dimenticati e gli ricordiamo che questo sarebbe il settimo trofeo in queste in queste quattro stagioni grazie Alessandro il sesto con Inzaghi in tre anni eh il sesto con Inzaghi in tre anni in tre anni uno scudetto due coppe italiane e tre supercoppe italiane solo con Inzaghi poi c'è uno scudetto di conto che sarebbe allora no dicevo Alessandro Giovanni invece tu chiudendo questa questa parentesi che ne pensi di queste di questi disegni delle coppe che fanno qui dici la coppa del mondo per le nazionali quella è bella perché vedi appunto c'è un concetto c'è il mondo il mondo è anche sì 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 sono molto più come si dice sono un po' più megalomani qua ci fanno di quelle robe qua è una cosa che ho sempre pensato dico si sforzano molto a fare ste con la coppa dello scudetto ma gli viene naturale far le cose non si sforza molto più grande dicevi viaggio? No negli States tutto è più grande però devo dirti io sono stato la settimana scorsa ho avuto la fortuna di essere invitato nella sala trofei dell'Inter ed è stato bello vedere tutte le coppe devo dire che essendo comunque coppe di dimensioni europee in una stanza ci stavano se fossero mega coppa americane la sala trofei ci vorrebbe un salone enorme quindi è stato bello vedere le coppe dell'Inter è stato bello grande ma queste sono tutte coppe che ha la società ma qualche giocatore può avere anche lui una coppa non uguale a quella che ha la società ma come questa un po' più piccola però che gli fa piacere perché dice l'ho vinto anch'io addirittura poi c'è il passaggio di anno in anno Andrea Folco dice direttore della coppa di nostro signore Gesù era di legno capito sto parlando di disegno di forma non del materiale per forza proprio della foil disegno cioè un po' di fantasia un architetto comunque al di là di al di là di questo invece adesso pensiamo pensiamo a vincerla questa coppa intanto la prima notizia è che l'Inter come ho scritto nel titolo al completo di nuovo al completo verso il giorno il grande giorno perché oggi si sono allenati dopo due giorni di di pausa per tutti la squadra e con la squadra si è allenato anche Arnautovic Quadrado ha ricominciato a allenarsi in gruppo poi avrà bisogno di un po' di giorni per trovare la migliore forma e tra domani e dopodomani manca solo De Vrij finalmente la squadra al completo peccato peccato rimane il rammarico che nei primi quindici giorni di gennaio e scusate in gennaio di marzo tra eh Duram e Cialanoglu che venivano dell'infortunio eh chi aveva avuto un calo di forma insomma non è stato proprio febbraio marzo come l'anno scorso l'Inter ha tenuto comunque un livello molto alto però in quei quindici giorni eh non era al cento per cento ehm tu viaggio hai qualche rammarico per quella settimana noi avevamo detto una settimana diciamo molto difficile tra le tante che l'Inter ne ha avuto quest'anno per esempio quella con Juve Benfica e Napoli o quella della Supercoppa italiana poi con la Celentina al ritorno quella Bologna Atletico Madrid e e Napoli era sulla carta complicata l'Inter ha vinto a Bologna una partita difficilissima e ha perso ai rigori con l'Atletico Madrid poi il pari in gioco il Napoli e e insomma rimane ancora un po' di rammarico oppure alla fine una Supercoppa italiana vinta i record di cui parleremo del campionato l'hai assorbita ormai quel passaggio del tour quel non passaggio del tour no io proprio per carattere guardo sempre avanti e non vivo mai di rimpianti del passato è andata così è andata così io ho ben chiaro qual è l'obiettivo di inizio anno per tutti noi l'obiettivo era vincere la seconda stella era l'obiettivo proprio primario secondiario terziario proprio volevamo quello prima di qualunque cosa abbiamo in ogni caso superato il girone di cempeo certo sarebbe stato bello andare avanti nessuno lo nega tra l'altro io ero la Madrid proprio sotto di me hanno tirato i rigori in cui siamo stati eliminati ovviamente è stato brutto in quel momento però abbiamo la possibilità di un risultato storico noi abbiamo vinto la prima stella avanti al mila e siamo perfettamente in corsa per vincere la seconda stella avanti al mila questo è un risultato storico che resterà negli anni e secondo me abbiamo ancora la possibilità anche se non sarà facile abbiamo otto partite per poter raggiungere o magari superare i cento punti che fanno rendere questa stagione davvero eccezionale quindi io direi non non pensiamo più a quello che è stato l'estate eliminazione coppa italia eliminazione coppa dei campioni non si può vincere sempre tutto andiamo a gioire per una stagione che può essere assolutamente storica la stagione della seconda stella 58 anni dopo la prima la prima stella che viene 58 anni dopo la nascita del club è vero tra l'altro stavo pensando proprio in questi giorni è vero che adesso ci sono le supercoppe e quindi magari è più facile vincere più trofei soprattutto la supercoppa italiana l'inter la supercoppa europea non l'ha mai vinta però c'è da dire che nel dal 2004 ad oggi l'inter ha vinto ventuno trofei sarebbe il ventiduesimo la juve diciannove in questi vent'anni il milanotto tutte le altre meno e significa che l'inter sta vincendo la media di un trofeo all'anno anche se ci sono stati 15 in sette anni poi c'è stato il vuoto e adesso sette in queste quattro stagioni però se vediamo questi vent'anni l'inter comunque ha vinto un trofeo all'anno perché dico questo perché tanti tifosi secondo me a volte danno per scontato un cammino da record le vittorie vincere addirittura due trofei non un trofeo all'anno come è stato quest'anno come è stato l'anno scorso come è stato due anni fa se pensiamo che nella storia dell'inter lo scudetto sarebbe il quarantaseiesimo trofeo e togliamo questi ventidue trofei di questi vent'anni ne restano solo tra virgolette solo ventiquattro nei precedenti novantasei anni che l'inter aveva la media di un trofeo ogni quattro anni negli ultimi vent'anni alla media di un trofeo all'anno e quindi godiamoci quando l'inter in un anno vince un trofeo è una stagione positiva un trofeo qualsiasi se ne vince due è una stagione molto positiva se ne vince uno dei due che lo scudetto è stra positiva se vince lo scudetto in modo record è una cosa da da scendere in piazza poi quando dice viaggia è pure quello della seconda stella più di così invece a volte vedo che anche adesso Inter Ascoli Alessandro Scanziani coinvolge Inter Ascoli Inter Empoli l'inter vince due a zero con una squadra che sta lottando per la salvezza che ha quindi grinta voglia con Nicola sta facendo risultati ha pareggiato pure a Torino con la Juve ha fatto altri risultati e tifosi eh sì vabbè ma alla fine del primo tempo non mi è piaciuto tanto quello è calato quell'altro non ha segnato meno male che è finito il campionato perché Lautaro e Turam non segnano ma non è normale che gli attaccanti segnano tutte le domeniche non è una cosa normale non è normale essere a 79 non è normale essere a più 14 non è normale aver dato 20 punti alla Juve in due mesi io credo che si stia un po' perdendo dimmi tu Alessandro Scanziani la differenza rating record la differenza rating adesso parliamo di tutti i record cioè non so cos'è secondo te c'è qualcuno più giovane che magari adesso è iniziato a fare il tifoso da poco ma non ha vissuto gli anni bui non credo perché nel decennio scorso sono stati gli anni più bui della storia dell'Inter come mai secondo te ci si abitua sempre velocemente a stare bene quello? Perché di base siamo un po' tutti fatti in questo modo che vogliamo sempre ottenere il massimo il cento per cento in ogni condizione in ogni situazione ma diciamo che sta facendo un campionato incredibilmente positivo la differenza tra i punti tra l'Inter e le altre non c'è paragone voglio dire e quindi non si può ogni partita vincere sempre con 3 4 a 0 massacrando sempre gli avversari poi gli avversari va bene che è una squadra l'Empoli che è messa male in classifica ma ancora peggio perché deve cercare di salvarsi se giochi con Fiorentina Lazio Monza Torino tra virgolette potrebbe essere una partita un pochettino più facile perché sono squadri a metà classifica e quindi l'andare avanti un po' di più l'importante insomma adesso anche loro hanno gli obiettivi europei anche Fiorentina Torino perché perché rispetto ai miei tempi dove c'era una champion a chi vinceva il campionato una chi vinceva la Coppa Italia e una a chi faceva la Coppa Europa e quindi adesso invece ce ne sono 4 adesso fino all'ottavo posto quest'anno infatti allora si cerca di arrivare almeno l'ottavo settimo o sesto posto oppure vince la Coppa Italia però che non è proprio sempre facile però è chiaro che quelle che stanno retrocedendo sono quelle messe peggio perché un discorso è di essere in serie A discorso un po' diverso e ritornare in serie B e quindi bisogna che c'è più cattiveria da parte di Empoli, Prusinone, Sassuolo, Verona, Udinese dove si dovrebbe andare domenica se non mi sbaglio e allora è una cosa più impegnativa e quindi io di base farei complimenti a quest'Inter, alla società, al mister, ai giocatori perché stanno facendo un ottimo campionato si poteva anche andare avanti con la champion se si fanno i rigori e quindi era un altro motivo in più però voglio dire non è che tutte le pretese possano vincere. ho visto sul mio foglio che mi sono scritto da gennaio una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici vittorie, dodici con l'Empoli e un pareggio, il problema è stato l'Atletico Madrid che abbiamo perso tra l'altro sui rigori, non è che è preso due a zero, tre a zero, nettamente più forti per l'amore di Dio. Il rigore è sempre un momento di difficoltà un po' per tutti. Il linter ha spregato sia l'andata che ha ritorno a occasioni clamorose. Però diciamo che i rigori, io nella mia carriera avevo fatto un contratto con Lascoli dove se facevo un gol mi davano un premio in più. E a un certo punto c'è stata una partita contro, non mi ricordo più neanche chi, contro Pistogliese forse, rigore. A Deglio Moro che era il rigorista era appena uscito, stavamo preso due a zero, ho detto lo tiro io, parato fuori. Quindi non è sempre facile in ogni momento tirare i rigori e fare sempre i gol. Io credo che più del rigore, tra l'altro l'Inter non aveva purtroppo grandi rigoristi, gli stessi Lautare Sanchez non avevano grandissime statistiche. Poi magari tu ci puoi insegnare Alessandro che anche senza grandi statistiche in quel momento ti condiziona. Il più bravo rigorista è quello che sbaglia di meno, non quello che non sbaglia mai. Non quello che non sbaglia. Se andiamo a vedere Messi che è un fenomeno, Cristiano Ronaldo è un altro fenomeno o anche altri dei miei tempi, e qualche volta capitava di sbagliare anche il rigore che è loro. La donna ha sbagliato i rigori, la donna ha sbagliato il rigore nei rigori finali. Allora intanto c'era forse un tifoso del Milan, non lo so, che scriveva dei trofei, eccetera. Lo ripeto, ti ho detto degli ultimi vent'anni, il Milan otto trofei, la Juventus diciannove, l'Inter va verso il ventiduesimo, ma al di là degli ultimi vent'anni, nel totale il Milan è a venti quarantanove, l'Inter quarantacinque, se l'Inter vince lo scudetto va a quarantasei, e visto gli ultimi vent'anni, ventidue a otto, mi sembra che il trend, quarantanove a quarantasei, siamo lì ormai con gli ultimi cinque derby consecutivi vinti, con il sesto alle porte, insomma. Poi è vero anche che il Milan ha un percorso di Europa League quest'anno da completare. Come trofei italiani non c'è paragone, nemmeno le Coppe Italia, mentre il Milan va su le supercoppe europee, ne ha cinque addirittura, è un trofeo che l'Inter non ha vinto. Ma tornando a noi, dicevo quindi, caro Alessandro Giovane, tu da Miami hai la fortuna forse di non vedere tutto quello che va in onda in Italia, no? Perché questa cosa della percezione può dipendere anche da chi, per esempio. Ci sono i miei colleghi che dicono, vabbè, ma l'Inter ha vinto con l'Empoli. La panchina dell'Inter è nettamente più forte dell'Empoli. Allora, secondo questo ragionamento, Inter, Milan, Juve, Napoli e Roma vincono con tutte le squadre dal decimo al ventesimo posto. Come mai non succede? Cioè, è quello anche che vogliono inculcare. Oggi, per esempio, mi mandavo un tifoso, un titolo, dei soliti noti, come mi ha scritto lui, in giornali, questo in Italia, Tic Tac, Tic Tac, Inter, il caos, Zang, caos, Tic Tac, il caos, Zango, Tri, fa paura, Lautaro e Barella non firmano. Cioè, in tre righe ci sono parole da terrorismo puro, il countdown, il caos, la paura e il non negativo di una cosa buona che non succederà. Capisci? Se i giornali ormai inseguono, anziché dire la verità e le notizie, inseguono la pancia di una parte di tifoseria che vuole sentirsi dire questo, e purtroppo poi sui social li riprendono e diventa sempre più un ambiente, diciamo, non sano, non equilibrato nelle analisi. Dalla America si percepisce questo o qualcosa di diverso? No, nel 2024 purtroppo arriva tutto anche qua, perché il web arriva un po' oltre l'oceano e viaggia pure veloce, quindi quello che dici sì, è vero. Io ultimamente mi sto un po' staccando perché non ne posso più, poi intanto ti guardo nelle repliche. Si è venuto, ci siamo conosciuti di persona a Intergenova. Sì, Intergenova, esatto, poi abbiamo fatto, esatto, le pagelle insieme. Un po' spartita da San Siro. Sì, 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 è col Bauscia, lo salutiamo. Come è andata la laurea poi di... Fantastico, sì. Il finale non tanto perché poi ci siamo messi a piangere tutti e due che dovevano andare via giorno dopo e quindi è stato 30 persone che ci guardavano, è stato un po' così dai, però è andata benissimo. sono fortunato, ho una figlia fantastica. È stato bello perché tu, racconta, sei stato al San Siro la sera prima, senza risparmiarti i cori, post partita, tutto, però poi l'appuntamento importante della mattina dopo, la carica della serata di San Siro. è un viaggio che fa queste cose praticamente ogni partita di Inter. L'ho partita, esatto, però è stato bello. Io spero di incontrare Viaggio dopo quella partita, o forse non so, adesso si dice Viaggio che potrebbe esserci anche il Pullman scoperto il giorno dopo la matematica, quindi di solito le feste erano quella spontanea quando c'è la matematica, fino alla sera, la notte, e poi, non so, quando finisce il campionato, o l'ultima in casa, quando ce la consegna la Coppa, sembra che in questo caso ci potrebbe, però niente di ufficiale, perché ovviamente non c'è nemmeno la matematica, ci potrebbe essere la festa il giorno dopo la matematica, visto che per esempio il derby è di sera, quindi la partita c'è a San Siro, si è lì ancora alle undici e mezzanotte. Insomma, se succede dopo il derby ci sarà il disastro lo stesso, c'è Caroselli per stare. No, ve lo sicuro, poi magari noi più resistenti ci facciamo sia la notte che la mattina, che il giorno dopo il Pullman facciamo tutto consecutivo. Oggi, guarda, è uscito su vari giornali, la Gazzetta, soprattutto la rilanciata, io aspetterei, a me sembra un po' strano, sicuramente la festa di popolo spontanea ci sarà, senza nessun dubbio, se si vincesse lo scudetto al derby, dopo il derby si va al Duomo, cioè quello è poco ma è sicuro, e ci sarà la festa, bandiere, caroselli, con le macchine, questo è sicuro. Io non so se il giorno dopo, prima della consegna un film, perché in genere sul pullman scoperto c'è sempre stata la Coppa, cioè tutte le squadre che ho visto, dall'Italia alle altre squadre, viene fatto in genere dopo che viene consegnata la Coppa e i giocatori vanno in giro sul pullman mostrando la Coppa. Io, che facciano la festa col pullman di martedì, senza Coppa, mi sembra strana, però al giorno d'oggi tutto è possibile, stiamo a vedere. Però scusa, quando l'Inter l'ha vinto, io per esempio quella che ho più nel cuore di queste parate di pullman, è quella proprio il 22 aprile, guarda caso, con la vittoria a Siena, e la festa col pullman ci fu la sera stessa. Era l'ultima giornata di campionato era? No, no, mancava cinque giornate dalla fine, era il 22 aprile. Non è l'ultima giornata a Siena, perché a Siena abbiamo... Abbiamo detto una volta che se non si capisce. Scusa, viaggio, dicevi? No, parliamo di anni differenti, perché un anno abbiamo vinto l'ultima giornata a Siena, se non ricordo male. Ah, sì, tu dici il triplete, il 2010. Sì, sì, no, io parlavo del 22 aprile 2007, che era attesissima, perché alla fine l'anno prima lo scudetto era il 26 luglio, e quindi, diciamo, io faccio sempre la battuta, quell'anno ci hanno rubato pure la festa, perché il 26 luglio l'ufficialità, e quindi quella del 2007 era attesissima dall'89, e ci fu il pullman. Tra l'altro, in un'altra occasione, racconta la squadra, ancora oggi, che Murigno non voleva, quando ci fu la matematica dello scudetto Uvinè con l'Uvinese Milan, nel primo anno di Murigno, e dice no, ma perché domani c'è la partita, sempre il Siena era, e alla fine però la squadra si è praticamente detto no, cioè noi andiamo, se tu vuoi... E ci fu il pullman la sera? Sai che io, allora, quel giorno non c'ero, perché ero al matrimonio di un amico, non credo ci fu il pullman la sera, comunque la squadra festeggiò, adesso non lo so nel 2009, ti dico la verità perché io ero a questo matrimonio in Puglia, quindi non me lo ricordo come... Il giorno dopo ci fu Inter Siena, 3-0, nel 2009, però quella che mi è rimasta più impressa è quella del 2007. Quella del 2008 fu a San Siro, era la pioggia di Parma, e poi confluimmo tutti a San Siro, dove ci fu appunto, poi ci fu pure l'invasione di campo, che non era prevista, e vabbè, nel 2010 c'era invece un po' più questa cosa di aspettare anche la finale di Coppa Campioni, e quindi, diciamo, lì ci fu la festa per chi era a Milano l'alba a San Siro, mentre per noi che eravamo io ero a Madrid, ci fu lì, insomma, nel campo, al Bernabeu, al Bernabeu. Quindi dicevo, recuperati tutti, avete curiosità di vedere negli ultimi due mesi qualcuno che abbiamo visto meno? Poi parleremo ovviamente anche dei record vari che l'Inter insegue. Però vi faccio un esempio, Arnautovic, Buchanan, o lo stesso, parlando di record, quelli che ancora devono segnare, sono Klastensensi, o Pavard, che cerca il primo gol, l'Inter ha segnato con 16 giocatori diversi in campionato, 17 in totale. Tu, Alessandro Jovane, hai curiosità di vedere lo stesso quadrato che si è visto poco quest'anno? Io, vuoi che ti dica la verità, io spero che si riprenda bene e che rimanga l'anno prossimo. Quadrato? Certo, ma è fortissimo, voglio dire. Però è un 88 ed è un esterno da tanto. Io me lo tengo, cioè me lo tengo, se sta bene, faranno le prove, vedranno, ma io me lo tengo naturalmente, ci sta, esperienza. Sei curioso di vedere quadrato, Piaggio, hai un giocatore che in questi due mesi osserverai con un po' più di curiosità? Guarda, a me piacerebbe che fosse dato più spazio e probabilmente succederà dopo la matematica certezza a Buchanan, 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 perché è giovane, quel poco che l'abbiamo visto ha dato una buona impressione, ci ha ricordato molto quadrato tra l'altro, nell'attaccare l'uomo, cercare l'uno contro uno. Mi piacerebbe anche, adesso non si capisce se è pronto subito tra un mese, perché il cambiato sta finendo, e quando quadrato, però se potesse giocare qualche partita mi farebbe piacere. Un po' meno interesse, onestamente, per Sensi, Klasen, che secondo me saranno in partenza comunque, quindi giocano, non giocano, non cambia di tantissimo. Anche Arnautovic, le sue opportunità riavute, non sono convintissimo che resterà e comunque non è un pilastro del futuro. Secondo me quadrato mi piacerebbe, perché aveva iniziato benino, c'era stata alla fine una buona accettazione del pubblico, nonostante alcune polemiche, è stato sfortunato a infortunarsi. Se potesse fare qualche partita del finale mi piacerebbe, invece Bucanar secondo me può essere molto buono per il futuro, sarebbe bello dargli opportunità. Sì, tra l'altro ha quelle caratteristiche che come dicevi tu, l'Inter ha preso quadrato apposta per avere più gente che salta l'uomo, il dribbling come Turam, come può essere quadrato, come può essere Bucanar, quindi si va anche a valutare dopo per la squadra dell'anno prossimo di cui parleremo e volevo chiedere ad Alessandro invece Scanziani se come ha detto Sommer ieri o aveva detto Marotta nel prepartita anche di Inter-Napoli è uno stimolo per un giocatore quando la seconda è staccata di 14 punti poter entrare nella storia con dei record oppure semplicemente uno scende in campo con quella maglia, con quel pubblico è normale andare al massimo oppure entrare nella storia ancora di più perché si batte un record può essere uno stimolo forte. Partiamo dal presupposto di quello che si parlava prima e poi dopo di questa tua domanda io direi che ci potrebbe essere la possibilità di far giocare qualche Mari primavera per vedere se può essere in condizioni l'anno prossimo di essere nel gruppo o meno gli altri giocatori che ci sono o qualcuno che ha giocato pochissimo ma gli altri che hanno 30, 35, 36 anni che hanno il contratto anche per l'anno prossimo possono anche star fuori tranquillamente perché comunque tu rimani nella mia società invece vedere un po' tre o quattro ragazzotti giovani che possono essere la differenza per l'anno dopo invece di vedere 22, 23 e magari 25, 26 però con tre o quattro ex primavera o primavera ancora in modo che alla settimana talleni con me prima squadra e magari alla domenica sabato, domenica se non ho la possibilità di portarti con me vai con la primavera e rigioca di nuovo però al di là di questo ognuno poi faccia le sue scelte per quanto cos'è che mi avevi richiesto scusa sì no intanto stavo ricostruendo con Luigi e Stefano perché io mi ricordavo più quello che dice Stefano che quello che dice Luigi cioè che poi ad Appiano ci fu una festa che Murigno diceva no dovete andare a dormire in camera domani si gioca invece ci fu la festa ad Appiano con i tifosi che erano a corsa Luigi dice io e il mio amico trovammo il pool ma lo scortammo fino all'hotel Melià forse perché comunque c'era il ritiro all'hotel Melià per la partita del giorno dopo e quindi fecero a Piano Gentile Hotel Melià ma il fatto stesso che tu dici eravamo dieci macchine non era il pulma scoperto era il pulma della squadra che andò semplicemente poi il ritiro ma la festa fu ad Appiano Gentile credo che sia andata così sì no l'altra domanda invece Alessandro era se inseguire il record dei record perché adesso vedremo sono tanti può essere uno stimolo forte in più cioè entrare nella storia sai non solo lo scuola della ventesima stella della ventesima stella che la seconda stella già quella è una cosa per cui entri nella storia ma anche dire la squadra che ha fatto più punti la squadra con la miglior difesa di sempre la squadra col campo cannoniere la squadra con 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 potrebbe anche essere uno stimolo in più sì lo stimolo sicuramente c'è è una base poi magari ci può essere lo stimolo che magari la società ti dà qualche premio in più e allora è un motivo in più per cercare di vincere più partite però lì dipende anche dall'aspetto individuale c'è chi ormai è contento di aver vinto il campionato e quindi non si allena più con la stessa cattiveria con la stessa determinazione invece di andare a letto alle nove di sera va letto alle due ci sono delle condizioni che qualcuno le vive il fatto di poter vincere ancora tutte le partite fare magari qualche gol vincere le partite con 3-4 a 0 non prenderne adesso guardavo l'Inter gol subiti solo 13 quello più vicino 23 la Juventus tutti gli altri poi Bologna 25 però tutti gli altri ne hanno 30-40 e quindi da questo punto di vista eccezionalmente positivi proviamo a continuare ad essere così però lì dipende un po' dalla società dal Minister e da come quello che dicono anche i giocatori perché ognuno la pensa a modo suo vinco il campionato basta è finita il campionato anche se c'hai altri 5-6 partite da fare bisogna stare attenti poi come ci si allena e magari il Minister dice ok usci all'inimale e non giochi punto ma io ho la sensazione che questo gruppo voglia andare fino in fondo cioè io mi aspetto che sia che sia una squadra sul pezzo li ho visti per esempio con Napoli c'era lo stimolo di rispondere subito a un'eliminazione hanno fatto un primo tempo veramente forte poi con l'Empoli io non so se qualcuno si aspettava 7-0 con l'Empoli io ho visto una squadra sul pezzo è vero che ha concesso un po' nel primo tempo di entrare nell'area di rigore però non era neanche facile vincere non era facile non era facile per questo dico adesso forse ecco l'Udinese è proprio una di quelle partite più ostiche proprio perché l'Udinese è una squadra fisica che si deve salvare che anche l'Udinese è ancora lì in corsa perché poi dico che è una è una partita insomma un po' insidiosa perché si parla molto del giorno della festa che si avvicina molto hai vinto anche la partita alla ripresa per il Milan iniziano anche inizia anche l'Europa League non giochi con il pubblico di San Silo che comunque ti spinge è vero che fuori casa ci sono sempre 4-5 mila tifosi anche a Udinese che sono previsti però a Udinese insomma io credo che possa essere una di quelle più difficili per inseguire i record i record significa per esempio il primo dei record possibili è quello dei punti 103 ma li devi vincere tutte 8 quindi a partire proprio da questa partita ieri ha parlato Sommer dicendo che ma come hanno detto tanti compagni in questa stagione che è bellissimo insomma giocare giocare nell'Inter perché si vedeva anche da fuori lui quando ha scelto ha scelto anche l'Inter perché si vedeva che era un gruppo forte unito il portiere tra l'altro abbiamo visto Udero ha fatto il secondo clean sheet su due in campionato perché la difesa comunque ti fa arrivare pochi pericoli quindi per un portiere è anche è anche bello voglio dire avere una una difesa che ti protegge così tu viaggio su questo di il discorso del giorno no? i giorni sono tutti uguali il derby vincerlo in casa perché l'Inter dà l'89 che non lo vince in casa le altre volte o fuori casa o senza giocare gli altri sei scudetti dopo l'89 quindi io ti faccio vedere intanto questa questa bella vignetta vediamo se se riusciamo a farla vedere allora no non c'è però intanto ti chiedo ti chiedo appunto nel frattempo nel frattempo mi chiede mentre parlavate ho fatto la ricerca e ti confermo che hanno ragione entrambi nel senso che prima la squadra festeggiò ad Appiano tutti insieme ma poi furono informati che c'era una folla incredibile al Duomo fu organizzato il pullman scoperto e la squadra arrivò nel cuore della notte in piazza Duomo quella sera stessa quindi il ricordo è corretto ci fu il pullman scoperto prima della partita con Siena che sarebbe stata poi la sera stessa e in questo momento tanti parlano quando è meglio che accada addirittura potrebbe accadere col Caglia che se il Milan facesse un solo punto in due partite e noi vincessimo Udine e poi in casa vinceremmo già con il Cagliari oppure si può vincere con intanto stavo facendo vedere sono riuscito a recuperare perché abbiamo detto che oggi ci sono stati un po' di problemi tecnici questa immagine a cui facevo riferimento divertente di Lautaro con la maglia che sarebbe scusami se non ho se non ho potuto seguire perché quindi dicevi della ricostruzione scusami perché poi mi interessava anche capire ho controllato nel frattempo su internet da lì d'epoca avevano entrambi ragioni erano prima da Piano Gentile festeggiano lì tra di loro poi vidro che era la folla enorme al Duomo fu organizzato un pullman scoperto che raggiunse il Duomo intorno a luna e mezza di notte e poi la sera giocarono con il ma per questo ricordavo bene perché appunto c'era di Giulio Cesar e Maicon che dissero a Murigno insomma ci fu una discussione sull'andare o non andare alla fine lo convincero e lo convincero e quindi alla fine andarono anche in Duomo non solo al Meliano andarono in Duomo si andarono in Duomo col pullman scoperto i brasiliani poi per fare festa figurati gli piace invece quando è meglio vincere la tua domanda è uno degli argomenti che si discute tantissimo in questi giorni ci sono due linee di pensiero una linea di pensiero è quella che dice meglio in casa è meglio alla fine col Torino la partita dopo il derby siamo 70.000 siamo tutti festeggiamo dall'altra parte c'è chi dice vabbè saremo di meno al derby saremo a forse 10-15.000 gli interessi ovviamente gli 8.000 di Curva Nord tra cui ci sono anch'io più molti altri interisti che hanno comprato da amici milanisti però anche lì è una bella soddisfazione vincere lo scudetto numero 20 davanti a loro in casa loro magari con una vittoria la soddisfazione ci sarebbe io personalmente non mi rifiacerebbe vincere al derby vi dico la verità quindi voti voti il derby anche perché ho avuto la fortuna di trovare il biglietto per il derby quindi ci sarò comunque ci sarò il derby e ci sarò con il Torino perché infatti quelli che mi dicevano ma come fai a fare la domanda ovvio che è meglio nel derby invece io no ho detto secondo me la domanda è legittima perché chi ha l'abbonamento o il biglietto per tutte le partite in casa secondo me in cuor suo se non è il biglietto per Milan-Inter è più bello esserci che infatti la risposta dipende molto se uno riesce o no ad esserci esatto per me quindi quello è importante tra l'altro puoi ricordare in viaggio perché lo ricordavi anche nelle tue storie per Inter-Torino anche se non si sa la data perché bisogna aspettare i quarti la data risapare il 19 aprile il 19 aprile comunicheranno tutte le partite fino alla penultima fino a Inter-Lazio però come spesso sta capitando in questi periodi vendono già i biglietti domani mattina alle 10.30 inizia la vendita libera sono usciti i prezzi abbastanza alti devo dire per darvi un esempio il primo verde è 79 euro che è un prezzo elevato per un Inter-Torino però fa capire che le ultime due partite l'Inter vuole anche un po' monetizzare ma non è Inter-Torino perché può essere la partita dello Scudente infatti Inter-Torino di per sé sarebbe i soliti 40-45 dall'istima del primo verde se potrebbe essere la partita dello Scudente se Inter-Lazio sarà la partita che viene consegnata la Coppa vedrai che saranno ancora più alti sarei la partita di Champions Inter-Lazio essendo l'ultima in casa penultima di campionato sarà sicuramente una partita di festa perché è il giorno della consegna del trofeo quello quello ufficiale se l'Inter lo vince con il Cagliari ancora possibile il Milan dovrebbe fare solo un punto tra Lecce e Sassuolo però attenzione perché quando il Milan va in casa del Sassuolo stiamo parlando del weekend di Inter-Cagliari il Milan è tra l'andata e il ritorno giovedì giovedì Milan-Roma-Roma-Milan quarti di Europa League quindi col Sassuolo potrebbe mettere anche tante riserve o alternative chiamatele come volete qui diciamo che la più difficile è la prima che si avveri c'è l'Inter che vince a Udine e intanto il Milan che già gioca sabato che pareggia con Lecce se succede questo secondo me si inizia a incanalare e secondo me anche quelli del Milan non è che si strapperebbero le vesti perché così evitano il discorso del derby è vero però poi c'è pure questo discorso quindi record a sei giornate dalla fine se lo dici col Cagliari la soddisfazione di vincerlo proprio contro il Milan quella dopo che guaglierebbe il record di cinque giornate dalla fine in casa col Torino alla fine di aprile oppure anche c'è questo 5 maggio che potrebbe ancora dopo il 5 maggio del triplete esorcizzare il 5 maggio del 2002 perché c'è proprio Sassuolo Inter altra squadra proprio diciamo non simpatica per noi però speriamo speriamo di no speriamo di no perché vorrebbe dire perdere molti punti nel mese di aprile se per essere ufficiale dovessimo aspettare più 10 servono in quel giorno adesso è più 14 perderebbe diciamo due pareggi l'Inter e tutte vittorie il Milan nei due pareggi perché fare due pareggi vuol dire perdere i cento punti ah sì quindi in questo momento l'obiettivo di fare cento o più è un bello obiettivo non abbiamo la distrazione della coppa abbiamo una partita a settimana secondo me deve poi ce la facciamo non ce la facciamo si vede ma il provarci dobbiamo provarci dobbiamo provarci a vincerle tutte poi se non ci si riesce ma con una partita a settimana l'obiettivo deve essere quello anche perché se si facessi il record è una cosa che rimane per sempre renderebbe quest'anno totalmente magico l'anno della seconda stella con record di punti vi stacco il record verso la seconda vorrendo un anno e che rimane io ho detto viaggio questo è il terzo periodo della storia dell'Inter più felice dopo la grande Inter degli anni 60 e i 15 trofei in sette anni dell'era Massimo Moratti dal 2004 al 2011 questo è il terzo perché sarebbe il settimo trofeo in quattro anni quindi un periodo di quattro anni consecutive di vittorie e quindi questo è il discorso periodo ciclo che qualcuno non vuole vedere mentre siamo all'interno di un ciclo per quelli che non se ne fossero accorti perché ci sono quelli che fanno finta ma lo scudetto di Inzaghi potrebbe aprire un ciclo no? Sveglia siamo al quinto anno del ciclo lo fanno apposta lo fanno apposta lo fanno apposta per diminuire perché loro non amano che l'Inter stia vincendo tanto e fanno il possibile lo vediamo nei giornali lo vediamo nei commenti lo fanno apposta per diminuire non ti cura di loro e poi parallelamente oltre a essere il terzo periodo più felice della storia dell'Inter che può se continua anche andare a insidiare i primi d'Ur perché può pure continuare per tanto c'è il discorso che può essere la terza Inter dei record perché l'Inter dei record è subito quella di Trapattoni viene in mente l'Inter dei record così ribattezzata ma non possiamo non citare il 2006-2007 di Mancini che fu dei record perché 97 punti con le 20 squadre era il record all'epoca ed è ancora oggi il record nella storia dell'Inter e questa che adesso parleremo proprio di questi record che può superare ho recuperato l'intervista di Giulio Cesare in cui spiega l'aneddoto allora nel 2009 ho vinto lo scudetto con l'Inter dice Giulio Cesare che è dal 2005 che era arrivato eravamo in albergo di Milano preparandoci per la partita contro il Siena sapevamo che se quella sera il Milan perdeva contro l'Udinese noi saremmo stati i campioni io qua mi ricordo che è da piano gentile adesso lui dice vabbè però non è questo l'aneddoto quando il Milan ha perso siamo diventati matti ma i miei compagni mi hanno detto che Murigno non voleva che andassimo a Piazza Duomo infatti lui preferiva che ci riposassimo prima della partita col Siena l'ho seguito in camera lui era già sdraiato sul letto e gli ho detto guarda se non vieni in piazza non vincerai mai più un titolo lui si è alzato dal letto e mi ha insultato in tutti i modi dice Giulio Cesare ma qualche istante dopo eravamo tutti lì a cantare e esultare con i nostri tifosi alla fine sono andati perché la minaccia è stata Murigno evidentemente ha avuto paura della maledizione dice Giulio Cesare a un certo punto mentre eravamo nei festeggiamenti dice Giulio Cesare ho preso Murigno per il collo e gli ho detto allora tu volevi restare in albergo guarda questo questo è per te e lui si è messo a ridere perché dice guarda che cosa ci saremmo persi la polla festante poi va bene racconta pure un aneddoto proprio con Murigno nella stagione 2008-2009 il mio rapporto con Murigno era come quello di un padre e un figlio poi è diventato un po' più complesso nella primavera del 2010 stavo giocando male avevo perso fiducia in me stesso se non sbaglio ci furono pure dei giorni con un incidente sotto San Siro se vi ricordate quindi un periodo un po' negativo un giorno Murigno mi avvicinò e mi disse senti tu sei passato ad essere il miglior portiere del mondo un portiere di serie C in quel periodo abbiamo avuto una lunga chiocchierata molto positiva qualche mese dopo sono stato scelto come portiere dell'anno in Europa da parte della UEFA abbiamo vinto il campionato la Coppa ma la grande conquista è stata la Champions League e questi sono anni meravigliosi che sembrava dopo il 2012 il 2013 il 2014 il 2015 tre volte l'Inter non si è qualificata alle Coppe Europee per sei anni non è stata in Champions League che ormai potesse essere chissà non dico una maledizione ma qualcuno aveva detto se vinciamo il triplete poi possono passare pure dieci anni senza vincere alla fine l'edizione o no sono passati con lo scudetto del 2020-2021 l'Inter ha ricominciato e fortunatamente sta continuando in parte tanti parlano di Supercoppe e non di tre consecutive vero e vero invece sono tre consecutive allora allora voglio sentire anche Alessandro Scanziani Alessandro Iovene su questa cosa della data secondo te Alessandro Scanziani vincere in casa del Milan che tu hai vissuto Milan-Inter hai vissuto pure Genoa-Samp magari una rivalità ancora più sentita perché sicuramente proprio il derby voglio dire dura tutto l'anno mentre a Milano avendo anche l'obiettivo Scudetto gli obiettivi Coppe si si concentra nella settimana del derby però pensi che allora ricordiamo cosa è successo due anni fa allora tre anni fa l'Inter ha vinto lo Scudetto due anni fa l'aveva quasi vinto poi perde a Bologna e lo vince il Milan che fa quel tipo di festa dove non tifosi ma giocatori che insultano colleghi una cosa veramente brutta l'anno scorso l'Inter elimina il Milan dalla semifinale di Champions League ma affaltandolo non con due pareggi come era successo vent'anni prima senza subire gol fa un parziale di 12 a 1 in 5 derby a 0-20 vince una Supercoppa in finale con il Milan lo elimina in semifinale dalla Coppa Italia con 3 a 0 quello prima vince 5 a 1 all'andata di questo campionato adesso questo sarebbe il sesto addirittura i tifosi del Milan non cantano più più o l'Ison Payer gli inputano soprattutto la gestione dei derby cioè c'è una una questione quasi che è diventata personale cioè quando sentono Inter è diventato il pallone da kill è diventata una partita ingiocabile insuperabile vincere il sesto derby e vincere lo scudetto quel giorno in casa loro oggi Paolo Condò ha scritto il Milan vincendo lancerebbe la sfida per il prossimo anno sarebbe una prima giornata della stagione 24-25 dove il Milan potrebbe essere un antagonista credibile nell'Inter quanti significati può avere o non può avere questo derby del 22 aprile secondo te ma è difficile dare un giudizio mi piacerebbe viverci dentro e allora riuscire a capire come la pensano i miei compagni come reagiscono di fronte a certe condizioni se con i Cagliari l'Inter vince il campionato e dopo magari fanno una settimana di vacanza tra virgolette sì vanno all'allenamento ma la condizione la testa non sempre reagisce in modo positivo sì siamo bravi siamo stati fortunati a vincere abbiamo giocato molto bene abbiamo fatto tutto però adesso adesso basta adesso ci si diverte anche in allenamento magari quando il mister continua a insistere per fare certe cose magari qualcuno dice mister basta adesso ormai non possiamo più vincere ancora perché vincere con il mio cosa ce ne frega noi abbiamo dito lo scusato sono 10 15 punti indietro vabbè però aspetta però aspetta nel derby non è ancora matematico che sei lì no diceva Alessandro nel caso nel caso che vincessimo con il Cagliari che il Milan fa un punto noi ne vinciamo due in quel caso l'Adi si no dico se si vince con l'Udinese con il Cagliari e loro invece no e quindi matematicamente abbiamo vinto e allora come puoi andare da questi giocatori e dire bisogna vincere anche questo derby cioè magari lo interpretano anche loro per l'amore di Dio però nel caso più probabile in cui invece non è ancora matematico prima del derby e allora ci può stare il fatto di dire dai ragazzi mettiamoci in condizione di vincere questa partita che magari vinciamo un campionato battendo il Milan e quindi ma lì dipende un po' da da giocatore a giocatore c'è qualcuno che ogni partita per lui è la finale di Champions e vuole giocare sempre al 100% e dà tutto qualcun altro che invece non è proprio così ogni tanto magari pensa d'altro che non ha la partita dipende un po' dalle condizioni della squadra e dall'aspetto anche atletico se sono ancora in una bella condizione o meno perché magari tra una settimana viene di 35 gradi di caldo e magari fai più fatica infatti adesso c'è anche la possibilità che arrivi la primavera insomma con più caldo tra l'altro mi scriveva Antonio da Melbourne ieri Michele non hai ricordato in questi giorni che c'è un precedente neanche tanto lontano nel 2008 lo scudetto di Parma della pioggia Ibrahimovic eccetera aveva visto l'Inter alla terz'ultima giornata era il 4 maggio avere 6 punti di vantaggio sulla seconda che era la Roma e si giocava proprio Milan-Inter l'Inter perse 2-1 e il vantaggio anziché essere lo scudetto matematico poteva essere matematico perché se l'Inter avesse vinto lo scontro diretto col gol di Zanetti a febbraio l'Inter aveva vinto 4-1 l'andata 1-1 con gol di Zanetti negli ultimi minuti quindi lo scontro diretto era a favore se avesse vinto era campione d'Italia in Milan-Inter perché la Roma vinse quel giorno era la terza ultima giornata invece la Roma vince l'Inter perde 2-1 segna Neinzaghi raddoppia KK segna Cruzzo su punizione l'Inter sfiora il pareggio ma perde 2-1 e allora si rimanda si dice vabbè sono rimandata perché tre punti di vantaggio batti il Siena in casa ancora il Siena e invece 2-2 con rigore sbagliato con rigore sbagliato mi ricordo Moratti inquadrato che dice ha fatto perdere la partita quando sbaglia il rigore e quindi l'Inter da più 6-3 la Roma vince ancora più 1 ultima giornata la Roma fuori casa passa in vantaggio e scavalca l'Inter con l'Inter che a Parma non riesce a segnare a quel punto Mancini rischi al tutto per tutto con Ibrahimovic che si diceva avesse un problema non superato al ginocchio dice però o oggi o mai più pioggia battente entra Ibra tiro gol al diciassettesimo del secondo tempo e poi c'è anche il 2-0 e il trionfo dello scudetto quello era il numero 16 e nel numero 16 caro Alessandro Giovanni hai preferenze tra Cagliari Milan Torino Sassuolo diciamo tra queste quattro il ventaglio per adesso allora io mi lascio una cosa che ho detto prima le offese lì dei milanisti che non ho festeggiato e spero che i nostri non lo facciano per non mettersi allo stesso livello dopodiché mi piacerebbe diciamolo non ci mettiamo esatto perché sennò poi veramente è becero è brutto cioè proprio non si poteva vedere allora non si potrà vedere se dovessimo farlo noi quindi vincere al derby per me è la cosa vitale adesso cioè proprio io voglio vincere al derby io sono proprio classico e voglio sbattere in faccia a casa loro la seconda stella è epocale e credo che i ragazzi che comunque le sentono queste cose le vibrazioni dei tifosi le sentono secondo me non lo dicono ma comunque lo stanno secondo me lo vogliono anche loro ecco e poi la sera se vinci al derby pullman fino alle 5 di mattina a festeggiare non c'è storia cioè io questo vorrei e basta quindi non il giorno dopo no no anche il giorno dopo con la coppa ufficiale magari o quello che è ma la notte ragazzi dai la notte al Duomo è un'altra roba dai appena vinto poi ragazzi finché i signori vanno a casa finché i signorini vanno a casa che si beccano tutte le strombazzate tutte le tutti i cortei ragazzi non c'è non c'è proprio non c'è proprio storia derby tutta la vita oggi oggi ha girato molto questa vignetta l'ho vista anche sulle storie di Biagio preferiresti vincere lo scudetto il giorno del derby col Milan oppure il 5 maggio contro il Sassuolo decretandone anche l'aritmetica retrocessione la domanda la domanda mi dirà è il tifoso che non riesce a decidere ti attorno sul sondaggio ho fatto un sondaggio e sto controllando a quanto allora la risposta è stata 76% preferisce al derby 24% il 5 maggio però aspetta però aspetta era il 5 maggio no però aspetta perché il 5 maggio decretandone anche l'aritmetica quindi compreso l'aritmetica era nella domanda sì preferisce al derby oppure l'altro era il 5 maggio con Sassuolo in B e la risposta è stata 76% il derby io ho risposto il derby ci sta ci sta ecco vi faccio vedere anche la classifica con l'Inter a 79 65 il Milan 59 la Juve che era a più 2 a più 2 a fine gennaio con due partite in più prima di Fiorentina e Inter la Juve aveva due punti più adesso è a meno 20 Allegri ha perso insomma quel l'umore livornese che diceva lui è cambiato un po' approccio nell'intervista tu Michele segui i miei canali quindi questo qua questo video l'hai visto molte volte la sliding door è stato in quel momento la Juventus doveva giocare con l'Empoli avesse vinto con l'Empoli ci superava andava più 4 noi anche vincendo restavamo dietro e c'è uno Juventus Club lo Juventus Club Spello dall'Umbria parte e tutti e 50 si vestono da guardie perché aveva detto proprio poco prima guardie e ladri tutto quanto che noi eravamo i ladri loro erano le guardie e quindi c'è questo pullman di Juventini che si veste da ladri tutti col cappello da ladri e cantano insieme le guardie dell'Italia siamo noi e conclude il capo del club del Juventus Club dicendo su che li prendiamo su che li prendiamo ragazzi sarà una coincidenza ma hanno fatto 8 punti in 9 partite esattamente dopo quella si adesso 7 perché hanno riperso ma ti scusa una vittoria 4 pareggi 4 sconfitte quindi mi dispiace per lo Juventus che le spello quella è stata la sliding door di questo campionato si ma tra l'altro viaggio al di là dello Juventus Club che almeno è uno Juventus Club tutto sport che sarebbe un giornale nazionale e ora prendeteci io infatti io ogni giorno pubblico la rassegna stampa ma quando pubblico tutto il porto io cambio il titolo cambio tutto Juve perché mi ricorda moltissimo che si ricorda c'era il mensile Urra Juventus vi ricordate? Urra Juventus lui era Juventus giornaliero un tutto Juve basta per dirgli no ma tra l'altro i tifosi dell'Inter hanno fatto un adesso prendeteci fatto perché già c'è stato il surpasso veloce non è durato nemmeno niente i punti adesso prendeteci i 20 punti in due punti è bello adesso prendeteci i 20 ecco qua me l'ha mandata proprio adesso Pasquale da Toronto ma c'è anche la versione con fatto che è quella quella più divertente adesso prendeteci fatto allora io tra poco devo già salutare Alessandro Scanziani che ringrazio prima di salutarti Alessandro volevo farti introdurre l'argomento contenuto dei record perché abbiamo parlato in generale ha inquadrato l'Inter nella storia questa Inter 23-24 che si sta incastonando nel terzo periodo più felice della storia dell'Inter in un ciclo di sette trofei in quattro anni e però anche la stiamo accostando all'Inter di Trapattoni all'Inter di Mancini per il punteggio allora ti elenco un po' di curiosità e numeri e tu da giocatore mi devi dire quale può essere più divertente da raggiungere allora intanto iniziamo a vedere i primi questi che sono in classifica cioè l'Inter per esempio ha vinto 25 partite su 30 era successo solo nel 2006-2007 pensate che la Juve di Conte alla 31esima la prossima perse a Napoli e si fermò a 81 l'Inter di Mancini pareggiò e poi perse anche con l'Inter Roma alla 32esima e si fermò a 81 alla 31esima l'Inter vincendo a Udine andrebbe a 82 e sarebbe la prima anche dell'Inter anche della Juve di Conte dell'Inter di Mancini alla 31esima 26 partite vinte nelle prime 31 differenza reti più 59 il record è più 73 mancano ancora 8 partite l'Inter dovrebbe fare un più 14 non impossibile difesa 14 gol subiti il record è 20 della Juventus in due stagioni prendere meno di 6 gol in 8 partite poi c'è Sommer che ha fatto 17 partite senza prendere gol l'Inter ne ha fatte 19 facendone 3 su 8 sarebbe il record 22 clean sheet poi c'è Lautaro che ormai non avendo segnato nelle ultime molto distante dai Guain e Immobile però potrebbe essere un altro un'altra coppiata scudetto e capocannoniere che è successa pochissime volte nella storia dell'Inter poi il maggior distacco dalla seconda può essere un'altra curiosità così come come ce ne sono ce ne sono ce ne sono davvero svariate tra attacco difesa e anche ci sono per esempio i 4 gol di scarto in 8 partite che è un altro numero che fa che fa abbastanza abbastanza impressione così come le partite in gol dell'Inter che è arrivata a 30 su 30 altro record eguagliato della della Juventus oppure l'imbattibilità l'Inter non perde dalla sesta col Sassuolo siamo arrivati a 24 qua ne mancano ancora 9 però se si fanno tutte le 8 di questo campionato si andrebbe solo a meno 1 insomma Alessandro ci sono tanti numeri che possono essere coronati con un finale il sesto derby consecutivo ecco quella quella è un'altra ecco i giocatori ieri mi dicevano tanti tifosi che sono si sono appassionati a questo record l'Atalanta ha segnato nel 22 nel 21-22 con 20 giocatori diversi l'Inter oggi ha segnato con 16 giocatori in campionato 17 se consideriamo Carlos Augusto in Coppa Italia ma in campionato sono 16 quindi almeno altri 4 giocatori devono andare in gol che possono essere Pavard Buchanan Klaassen Sensi Quadrado quindi qualche jolly ancora c'è che può segnare ecco i giocatori diversi partecipare tutti l'attacco la difesa le partite consecutive qual è la la diciamo il numero che ti impressiona di più i 14 gol subiti secondo me considerando che l'Inter l'anno scorso ne ha presi 42 mamma mia sicuramente quello che mi interessa di più sono i punti le partite vinte e quindi appena riusciamo a vincere io sarei già molto contento anche se dopo c'è il derby e magari perdo il derby però io comincio a vincere il cantinato tu vuoi la matematica che è l'obiettivo principale in questo momento prima magari ci poteva essere anche un po' di champion arrivare magari ancora in finale ma adesso l'obiettivo è quasi esclusivamente questo e più presto lo vinciamo meglio è su questo non ci sono dubbi e quindi vediamo un po' però prendere un gol in più o prendere un gol in meno farlo o non farlo non è un problema il problema è vincere due o tre partite magari anche di fila per l'amore di Dio ci mancherebbe però l'importante è riuscire a vincere le campionate e festeggiare questo perché l'obiettivo è questo qui di primo piano Alessandro perché proprio mentre eravamo in onda si è giocato una partita anzi due di Premier il Liverpool ha vinto e si è ripreso il primo posto ma soprattutto credo che stasera si sia ancora no però insomma meno nove dal quinto posto del Manchester United ha perso con il Chelsea ha preso finora 44 gol Onana che l'anno scorso insomma era una sicurezza pensate la partita l'andamento incredibile Gallagher al quarto il Chelsea in vantaggio al diciannovesimo rigore Palmer 2 a 0 rimonta dello United Garnasio al 34esimo Fernandes al 39esimo a metà secondo tempo 2 a 3 United sembra finita rigore al centesimo per il Chelsea che segna il 3 a 3 al centunesimo segna il 4 a 3 Palmer che aveva già segnato i supplementari perde una partita incredibile io non l'ho vista però già solo il tabellino dopo andremo andremo a vedere una cosa incredibile tu facevi riferimento ai punti caro Alessandro Chelsea che comunque è decimo a 43 punti lo United è sesto a 48 i due squadre in clamorosa crisi e che potrebbero anche cambiare allenatore sia Tenac che Focettino rischiano a proposito di Conte poi magari parleremo ecco i punti perché prima non l'ho citato allora l'Inter insegue due record di punti il primo il bersaglio più grosso è ancora possibile proprio per il rotto della cuffia cioè se deve vincere tutte 8 per arrivare a 103 il record è 102 tutte 8 ripeto la Juve di Conte andò alla prossima giornata a fare l'ultima sconfitta e si fermò a 81 poi però vinse le ultime 7 e fece da 81 102 in seconda battuta l'Inter nella sua storia con Mancini ha fatto il massimo 97 questo è un po' più fattibile perché basterebbero si fa per dire 18 punti in 8 partite significa anche 2 sconfitte addirittura 6 vittorie e 2 sconfitte per eguagliare l'Inter di Mancini questi dei punti Alessandro come li vedi? ma non saprei perché io dico l'importante è vincere il campionato per cui se dobbiamo fare 3 punti 6 punti 9 punti più presto li facciamo e vinciamo abbiamo fatto il massimo poi se le altre partite non riusciamo a dare il 100% non riusciamo a vincere anche le altre partite non è un problema il problema è uno solo vincere il campionato punto secondo me poi dipende un po' anche dalla società perché tante volte magari ti stimola a fare qualcosa in più perché ti dà un premio in più perché ci sono altre considerazioni che fanno la differenza perché magari c'è qualcuno che non è sicuro di rimanere ancora lì all'Inter e invece lo vorrebbe fare e quindi fa sempre però saranno 2 o 3 questi non sono 15 e si gioca in 14 15 adesso e quindi bisogna dire se gli altri sono ancora in grandi condizioni sia fisica che di testa perché una volta che vinci che festeggi poi magari adesso cominciamo a festeggiare anche gli allenamenti non lo so dipende un po' non solo dalla società e dal Minister ma anche dalla testa dei giocatori ecco ti dico di Sommer che gli hanno chiesto ti ha sorpreso quanto è forte l'Inter non perdete praticamente mai ai colleghi svizzeri ieri che glielo chiedevano e lui risponde sorpreso direi di no anche perché nell'ultima stagione era arrivata in finale di Champions League avevo già visto la squadra si percepivano la qualità e la bravura di Inzaghi non vedevo l'ora di iniziare questa avventura ma senza mettermi troppa pressione mi sono detto ok arrivo in una squadra top italiana ed europea una squadra unita che si conosce già benissimo per un portiere è bellissimo arrivare in una realtà nuova e trovarla già così compatta e forte è bellissimo essere all'Inter e qual è la vostra sfida adesso visto che avete archiviato l'eliminazione Champions in Serie A avete un grande vantaggio qual è la vostra sfida adesso? evidentemente il nostro obiettivo primario è vincere lo Scudetto nelle prossime settimane affronteremo partite molto difficili proveremo a fare il massimo dei punti a disposizione ma nessuno ci farà regali tutte le partite sono e saranno complicate poi vedremo se sarà possibile stabilire qualche altro record ma prima di tutto dovremo pensare al titolo anche perché nulla è ancora deciso dovremo continuare a spingere il bello insomma deve ancora venire così come Marotta aveva detto prima del Napoli che diciamo mettere la cibi e gina di qualche record non guasterebbe è sicuramente meglio per l'amor di Dio però la prima cosa principale come ha detto anche lui è vincere il campionato sicuramente sicuramente Alessandro proprio l'ultimissima siccome parleremo anche di programmazione futura come avevo promesso e l'avevo scritto anche nel titolo l'Inter finora si è mossa con Zelischi e Tareni che andrebbero a prendere la casella di classe Nessensi uno cioè alternativa a Mkhitaryan mezzala sinistra e di un attaccante l'altro Tareni con Sanchez che è scadenza Arnautovic ancora un altro anno ecco da Lautaro Turam sono tre secondo te meglio averne quattro cioè due che lottano per ciascun posto o averne cinque può fare comodo visto che è una stagione in cui aumentano anche le partite e se sono quattro sono cinque che ragionamento faresti su Arnautovic su Sanchez e anche Valentin Carboni che sta crescendo tanto al Monza è un duemilacinque diciannove anni quest'anno ha fatto a marzo per considerare perché ti dico questi tre Arnautovic Sanchez e Carboni perché in base ai ragionamenti che si fanno su questi tre l'Inter poi se sceglie Sanchez di non rinnovare Arnautovic di vendere Carboni di farlo crescere un altro anno da un'altra parte per dargli continuità si aprirebbe un buco da dover colmare andando a prendere un altro giocatore e si parla molto di Gudmundson che è un giocatore che può fare la seconda punta la sta facendo benissimo quest'anno e quindi sarebbe una squadra con le coppie ben definite Turam Gudmundson e Lautaro Taremi ecco che ragionamento faresti sull'attacco e su questi giocatori che ti ho citato a partire da Valentin Carboni come lo stai vedendo è chiaro che bisognerebbe avere due grandi giocatori per ogni ruolo in fase centrocampo e in difesa più o meno siamo in queste condizioni lì davanti c'è qualche problemino in più però bisognerebbe riuscire a creare anche due attaccanti ci sono già molto bravi e anche avere altri due che se perché se uno si fa il crociato se uno non condizione fisica non ottima bisogna avere qualcuno che entra in campo ed è come se ci fosse diciamo il titolare fisso e in più magari uno o due della primavera o che hanno 19-20 anni che possono essere impiegati all'ultime mezz'ora all'ultime 20 minuti secondo tempo però c'è la possibilità di farlo crescere perché salera ogni giorno con la prima squadra e quindi per Valentin Carboni che ha fatto il primo anno in Serie A dove è diventato tra l'altro un po' più titolare nel girone di ritorno è meglio un altro anno in una società che magari fa pure le coppe europee l'Europa League la Conference League come può essere il Monzo può essere un'altra squadra di quel livello o essere già un'alternativa ma in un pacchetto di 4-5 punti all'Inter vicino a dei campioni no o lo metti diciamo tra i primi 4 ma non più come un primavera ha già giocato un bel anno in Serie A e quindi o è subito pronto oppure gli diamo un altro anno di possibilità di giocare ancora in Serie A magari nella stessa Monza e ne prendiamo un altro della primavera e viene con noi in modo che l'anno dopo quell'altro può tornare e fa uno dei tre o dei quattro non dico titolare fisso subito però può fare la dimostrazione di essere un ottimo giocatore dipende un po' non solo dalla società ma anche da lui perché dice io per esempio io quando giocavo a calcio il mio obiettivo era quello di giocare sempre giocare ecco e quindi stare in palchina diventavo lui Alessandro considera che adesso ha esordito con un'azione bellissima negli ultimi minuti dell'ultima amichevole dell'Argentina campione del mondo dove i giornalisti telecronisti argentini sono impazziti per la giocata che ha fatto se ne è andato in velocità da centrocampo con uno stop a seguire ha superato l'uomo è arrivato al limite dell'aria e poi ha tirato portiere che devia in angolo è stata una grande azione dove hanno iniziato lì a elogiarlo dicendo questo è un talento sicuro adesso non vediamo l'ora di vederlo crescere quindi forse è meglio avere un altro anno in cui giochi sicuro secondo me secondo me sì anche per lui perché se lui trova una squadra se parla con l'allenatore o del Monza o di chi per esso e gli dice tu parti da titolare fisso è diverso che essere all'Inter dove magari i primi due giocano bravi come sono e tante volte dopo dieci minuti l'Inter Alessandro ha rifiutato 20 milioni a gennaio c'è chi dice che se però dalla Premier arrivano a 40 vacilla può darsi può darsi perché 40 sono già una bella cifra il problema è anche lui lui vuole andare su là perché magari ti danno tre volte quello che ti dà l'Inter o il Monza e allora dici meno per i soldi devo andarci e poi comunque va in Inghilterra in una bella squadra fa un bel campionato perché è un campionato di un livello e l'Inter avrebbe i soldi per andare su una punta anche se dispiacerebbe tanto un 19enne tu Gudmundson sicuro l'hai visto perché segui la Samp ma anche nel Genoa hai giocato un anno comunque il Genoa lo seguite in Serie A Gudmundson può essere da Inter già ha fatto una grande stagione al Genoa quest'anno 27 anni per le partite per le partite che ho visto mi ha dato questa impressione di una capacità di una capacità tecnica e anche dal punto di vista del muoversi nel modo giusto credo che possa venire e fare la differenza perché ormai lui è un campionato in Serie A l'ha già fatto e ha fatto vedere quanto è bravo per cui se dovesse venire all'Inter il problema tante volte ripeto il concetto espresso prima da me se non giochi va in crisi perché non riesci non riesci neanche a dare il 100% in ogni allenamento perché intanto so che non mi fai giocare perché ce ne sono due che sono due fenomeni e allora di base io preferirei magari non in una grande squadra per una normale ma dove gioco sempre però poi ognuno la pensa a modo suo per amore di Dio io secondo me è un ottimo giocatore se dovesse venire qui potrebbe essere subito indietro alle due punti più bravi che stanno giocando questo campionato Contarini oggi ha parlato con Seisau ha detto non è vero che non lo vogliamo far più giocare anzi ci tornerà sicuramente utile lo voglio solo vedere tornare al 100% in settimana era venuto dalla Coppa d'Asia poi aveva avuto un problemino fisico Alessandro grazie non so se la prossima volta che ci vediamo Obiettivo Inter potrebbe essere già di solito ci vediamo una volta al mese a Obiettivo Inter adesso siamo inizio aprile va bene anche fra due giovedì se ne vinciamo dai va bene così così parliamo di quello che è il giorno dei giorni come lo abbiamo ribattezzato perché stiamo aspettando veramente con grande non dico ansia ma anche felicità felicità poi giunedì devo andare a un interclub a Rubecco insieme a due o tre miei ex compagni Canuti e compagnia e quindi se dovessimo vincere tutte e due le partite festeggiamo anche quella grande grande salutameli salutameli ok senz'altro ciao Alessandro un abbraccio grazie grazie mille a tutti ciao arrivederci ciao allora voglio dire a Viaggio che Pasquale che ci sta seguendo da Toronto e anche in chat vedete voi cuori vedere voi cuori interisti parlare di Inter è una boccata d'ossigene dopo un continuo dissing da parte dei medi e giornali e poi dice speriamo di prendere anche Fabian Fabian Pasquale può arrivare nel 2025 per 12 milioni mentre lui dice per al posto di Klassen al posto di Klassen arriva Zelischi che è già stato è già stato preso ti dice Pasquale Michele per favore puoi dire a Viaggio che nella mia prossima vita voglio essere come lui grazie è il mio fan preferito quindi ci teneva tanto grazie gli mando un caro saluto a Pasquale un caro follower da Canada spesso scrive quindi grazie è veramente noi abbiamo avuto anche una volta o un paio di volte ospite qua a Biettivo Inter è veramente una famiglia di grandi interisti anche i piccoli sta diciamo crescendo con l'interismo cantano i cori veramente forti l'interismo in giro per il mondo con tanti italiani che ci sono nel mio ruolo ho molto contatti con gli inter club e quindi vedo inter club Manhattan Londra quelli in Germania Madrid Parigi ma davvero ovunque è bello vedere questi italiani che stanno all'estero ma l'inter è un forte legame crescono i figli nell'amore dell'inter è bellissimo davvero brothers of the world da tutte le parti del mondo anche io preferisco adesso qua abbiamo Alessandro da Miami preferisco un po' in video diciamo va beh anche se Alessandro ci ha raccontato che ormai voglio dire col web tutto il mondo si vede tutto in tutto il mondo però io credo che ancora un po' di diversità ci sia da la percezione un po' più tossica che sia sono sempre sono sempre una testa e basta quando chiudi il computer diciamo è finita qua non hai più vita calcistica perché vai in giro non è come andare al bar lunedì dopo le partite a spottersi con i giuventini milanisti qua non c'è niente capito quindi una volta che fai così col computer è finita però comunque ho stato davanti a computer parecchio e purtroppo di roba ne vedo soprattutto purtroppo da tifosi interisti la tristezza è proprio è a livelli basta sbagliare due passaggi è l'Inter l'Inter sottotono l'Inter dei record sta facendo dei record che questi qua io non vedrò mai più una roba del genere la seconda stella io mi auguro la terza vi auguro ma quando cacchio la vedrò stiamo in un'area clamorosa ragazzi facciamo se restiamo alla media ripeto l'Inter sarebbe il settimo scudetto per esempio se prende gli ultimi vent'anni ci possiamo mettere molto meno di cinquantotto stavolta perché se sono altri sette è una cosa epocale che stiamo vivendo una cosa veramente che rimane e che tanti non se la stanno godendo perché chissà quale motivo perché c'è una parte ripeto c'è due giornali su tre sportive è vero che uno dice vabbè ma chi lo compra degli interessi di tutto sport o chi del Corriere dello Sport non c'entra perché poi ci sono una serie di siti infiniti che riporta tutto per non parlare dei social allora questo tipo di pressione che loro hanno ogni giorno c'è una negatività dacci oggi la negatività quotidiana se ne inventano di tutti i colori ma veramente ogni giorno proprio i titoli sono guai guai all'inter tic toggi tic tac il countdown paura arriverà il giorno il 20 maggio il 20 maggio stanno trasformando questo 20 maggio in chissà che tipo di Armageddon Armageddon l'ultimo giorno Armageddon è l'ultimo giorno l'ultimo giorno è Zhang che deve definire la situazione con Oktri se non la definisce in suo favore Oktri sarà Oktri e non Zhang a trovare un prossimo proprietario quindi non è che c'è l'Inter ha una strada definita con la UEFA nel 2022-2027 che sta rispettando e chiunque sia il proprietario quella strada ha l'interesse anzi veramente all'obbligo ma ha anche l'interesse a rispettarlo perché questa strada dice tu hai i tuoi costi sostenuti nei tuoi ricavi è uscita pochi giorni fa anzi proprio l'altro ieri la classifica dei proprietari di squadre di calcio più ricchi del mondo ci sono al primo posto quello del Real Oviedo al secondo posto quello del REN il primo italiano sono i fratelli indonesiani del Como il secondo c'è Fritti c'è Commisso c'è Saputo del Bologna ma voi avete mai visto lo Miede il REN che fanno la finale di Champions League o il Como che è in Serie A o il Bologna arrivare allo Scudetto o con tutto il rispetto la Fiorentina in questi anni non è la ricchezza il patrimonio o le fortune dell'azienda del proprietario oggi incidere nella campagna acquisti e questa purtroppo devo dire che anche tantissimi che parlano di Inter oggi in Italia ti fanno il lavaggio del cervello dicendo che l'Inter fa il mercato a zero perché ha questi dirigenti fantastici che sono bravissimi sicuramente ma vi assicuro che se leggete il bilancio dell'Inter il mercato non lo fanno a zero è una balla clavorosa l'Inter è la seconda squadra più costosa della Serie A che potrebbe essere la prima ma se adesso la Juventus che chiuderà ancora meno centocinquanta o forza di più il bilancio dovrà ridurre ancora di più la Juventus i suoi costi quindi non è vero che l'Inter è una squadra così che non ha spese no l'Inter è una squadra che per quello che è la Serie A è costosa è la più costosa adesso è la seconda può diventare la prima già nella prossima stagione i ricavi sono comunque di tutto rispetto l'anno prossimo potrebbe essere la prima anche per quanto riguarda i ricavi quindi è quello che regge la colonna dei ricavi legge la colonna dei adesso abbiamo visto l'ultima semestrale più 22 che non significa che l'Inter chiuderà a zero quest'anno ma potrebbe chiudere a un dimezzamento del meno 85 dell'anno scorso quindi circa meno 40 meno 50 poi l'anno prossimo o col mondiale per club più sicuramente nel 25-26 ci potrebbe essere l'agognato pareggio di bilancio che porta alla chiusura del settlement agreement e a una diciamo strada virtuosa che è stata intrapresa e se non fosse stato per la pandemia era già stato raggiunto quell'obiettivo negli anni non cambia poi ognuno di noi può avere la percezione io per esempio che sono come diciamo come persona credo di essere molto riconoscente contro chi mi dà una una mezza cosa cioè sono fatto così se parlo di calcio un proprietario che è venuto da lontano a investire un miliardo e forse non lo recupera probabilmente non lo recupera o vediamo se riesci in qualche modo ad andare avanti adesso lo potrebbe recuperare e l'Inter da squadra fuori dalle coppe diventa squadra che vince sette trofei prima in Italia io faccio il tifo per una persona così sono riconoscente verso una persona così ma uno che non gliene può fregare niente che non è non è il mio carattere a livello umano personale di inter di relazioni può pure dire a me per me il presidente dell'Inter è X tanto io non lo conosco a me interessa solo che il club sia forte sia gestito bene a queste persone il 20 maggio quasi mi può dire che non succede quasi niente a queste persone invece per chi ha un po' di riconoscenza magari interessato a capire se la questione si risolve a favore o meno adesso sono andato un po' troppo oltre perché volevo parlare prima dei record prima di arrivare alla programmazione programmazione che ripeto continua con Marotta abbiamo dato già la settimana scorsa questa notizia Poc3 Pozang con Marotta quindi con questo management e la strumentalizzazione che hanno fatto per le dichiarazioni di Marotta che le avevamo sentite a dicembre quando aveva firmato il contratto ne parliamo cioè Marotta nel 2027 se ne va lascia l'Inter ma è normale ha 70 anni cosa deve fare non hanno scritto nel 2027 hanno scritto sì oggi sentenza corte d'appello a Milano su China Construction Bank Marotta se ne va è una sentenza civile non penale quella lì di Zang il presidente di cui tanti si vergognano perché a livello morale ok vergognatevi pure va poi andate al Duomo a festeggiare poi quando toccherà mi raccomando dai torniamo perché poi adesso arriviamo alla programmazione però partiamo da i record che ho fatto commentare Alessandro Scanziani con Viaggio allora Viaggio i punti tutti gli altri che abbiamo nominato anche questa cosa della differenza reti o del numero di giocatori diversi andati in gol non è male come record oppure quello di di Sommer quello dei Cliccic della squadra quello di essere l'Inter che fa più punti nella storia qual è quello che ti appassiona di più c'è anche quello delle trasferte che non ho nominato l'Inter finora ha fatto tu che tanti chilometri ho fatto per te internazionale lo sai benissimo 12 vittorie e 2 pareggi il record è 16 l'Inter deve fare ancora 5 trasferte a Udine il derby Sassuolo Frosinone e Verona se ne vince tutte e 5 le trasferte fa 17 vittorie se ne vince 4 su 5 e guaglia il massimo che è 16 vittorie quindi anche questa è un altro dei re sono tanti qual è quello che ti diciamo seguirai con più curiosità in questo rascio finale guarda a me quello che affascina di più sicuramente sono i 103 punti cioè vincere le 8 partite arrivare a 103 un strutturato che mai nessuno ha fatto neanche la giovedì Conte che è il record di 102 un record che rimane nella storia chissà se quando verrà abbattuto magari tra vent'anni trent'anni trent'anni il massimo di impegno fino all'ultima giornata ricordiamoci che neanche negli anni passati abbiamo avuto squadre campioni che poi nelle ultime due giornate poi le hanno perse le partite se non ricordo quando arriviamo secondo con Conte noi ci avvicinammo perché la Juve ripeto vado a memoria ma mi sembra che perse le ultime due spesso capita che c'è un calo nel finale quando ormai l'obiettivo sembra raggiunto secondo me Doloro dovrebbero avere proprio come obiettivo questo di fare oltre i 100 punti per rendere assolutamente storica questa stagione e se fanno questo molti degli altri record verranno perché per vincere tutte le partite devi continuare a segnare devi prendere pochi gol vinci in trasferta quindi tutto viene di conseguenza ma avere superare i 100 punti secondo me è un qualcosa che rimane per quanto riguarda i commenti che hai fatto prima che condividi in pieno io vedo due fattori e tu li hai ben citato uno in particolare uno è quello le persone oggi sono purtroppo in tempi di social estremamente questo vale in politica vale nell'offport estremamente influenzati da tutto quello che viene presentato quello che è il grande pericolo per l'Italia in questo momento senza entrare in quell'area ma nel campo dell'offport si è creato questa guidata dei vari corriere dell'offport tutto offport e siti che riprendono le stesse notizie che cercano di diminuire quello che sta facendo l'Inter di amplificare i problemi societari quando il nostro debito è simile a quello della della Juve non c'è zero rischio di fallimento ma viene amplificato quindi questo qua purtroppo come capita ripeto in altri campi le menti deboli vengono influenzate da questo quindi questo fattore uno che è proprio tipico della nostra società in questo momento il secondo fattore che vale per gli interisti ma vale in genere per molte tiposte di calcio purtroppo molte persone sono abbastanza tra virgolette tristi nel loro modo di vivere la vita per cui ma lo vedi nelle miei di condominio lo vedi spesso all'uomo c'è persone che sono di carattere lamentose che vedono ogni singola cosa io dal voto dopo partite vinte con alcuni degli interclub ho quasi discussione li devo trascurare vinciamo 2 a 0 fai l'esempio con l'empo eh sì ma con l'empo ma potevamo farne di più ma perché ma come vinciamo con i gol dei terzini come se non facessero par perché non segnano più gli attaccati cioè siamo primi con un mare di punti di vantaggio e si va a cercare il pelo del luogo per diventarsi una cosa positiva che segnano tutti bravo bravo sono come quelli di pede persone triste che torno dal lavoro a casa e magari se la prendono con i figli con la moglie per qualunque cosa che che trova io fortunatamente sono di carattere completamente diverso sono molto positivo vedo il bicchiere mezzo pieno sto vivendo con una gioia incredibile questa stagione che è una delle più belle che ricordi triplette a parte che è stato un anno per tante combinazioni fortunate e anche episodi fortunati e irripetibile nelle tre vittorie quindi io ritengo questa stagione bellissima adesso ci manca la cilio io non ho dubbi dicevo prima io ho già ordinato la coppa molti dico no io non la ordino finché non è matematica io siccome voglio averla la coppa pronta per il giorno in cui vinciamo in modo che la faccio subito vedere nei miei social agli amici milanisti io ho ordinata anzi un'ordinata è una una per me una per per mio figlio quindi il dubbio non è se vinciamo lo scudetto i milanisti possono sperare nella rimonta ma tranquilli lo vinciamo noi e la vera domanda a suo punto è con quanti punti vinciamo e tanti più sono i punti tanto maggiore sarà storica questa ragione anche io io spero di battere il record perché ho sentito il collega di Michele che l'Inter può vincere quando vuole l'importante è che non batta il record della sua Juventus Chirico quindi io spero siccome a loro dà fastidio questa roba qua andiamo a togliere anche sto primato qua li faremmo morire li faremmo morire e devo dire comunque che il fatto degli interisti molti sono però devo dire interisti da casa io vedo invece in positivo un cambio del Meazza ti faccio l'esempio il Napoli viene da campionato scorso srepitoso recoli tutti il record ha perso l'altro giorno in casa con l'Atalanta l'intero stadio a fischiare contro i giocatori contro tutti noi l'anno scorso nell'anno due anni fa dove abbiamo vinto lo Scudetto abbiamo perso di pochissimo e tutti si ricordano emozionante la partita Quasamdoria ultima in casa abbiamo vinto il Milan ha vinto fuori casa ha vinto lo Scudetto l'intero stadio ad applaudire commossi i nostri giocatori che erano sotto di noi a a salutarci anche loro piangendo ma tutto lo stadio che applaudiva e ricordiamoci l'anno scorso abbiamo avuto dodici sconfitte un anno sfortunato da questo punto di vista io non ricordo una partita in cui l'intero stadio ha fischiato come hanno fatto quelli del Napoli che venivano dalla stagione del record io penso che la maturità e l'affetto e il legame che il Meazza ha con con la squadra con i giocatori è uno dei più alti che io ricordi ed è sicuramente molto più forte di tanti interisti da social che sui social sanno solo a criticare e anche il record il record di di spettatori diciamo sempre primi sempre sopra i 70.000 se in qualunque se non facciamo il tutto esaurito è perché il settore ospiti magari non consuma tutti infatti la differenza tra 70 71 73 è sempre i settori ospiti inter tagliari è sold out non c'è un biglietto disponibile gli unici disponibili sono gli abbonati che lo cedono è qualcuno che se lo compra ma se vai sul sito dell'Inter Inter Cagliari non ne trovi Inter Torino che sarà in Veneto domani non c'è dubbio che sarà sold out ma è stato così praticamente per tutto l'anno questo è un atto che ho fatto a Inter Genova al tabellone 75.000 erotti perché i tifosi al Genova sono venuti erotti bravi è stata una bella serata quella per me allora io io vi dico che volevo fare un doppio augurio uno per l'Inter e uno per Inter fan tv allora quello per l'Inter è al mister che compie gli anni è passata mezzanotte grande tanti tanti auguri a mister Inzaghi qui abbiamo con Biaggio uno dei più grandi sostenitori del mister ci hanno scritto tanti anche qua molto bello quello che ci scriveva un tifoso sul gioco di Inzaghi diceva il vero record Antonio dall'Australia è avere una squadra splendidamente offensiva ma talmente organizzata da subire poco o nulla direi che Inzaghi è un visionario ci ha messo tre anni ma ce l'ha fatta lui anche dice noi abbiamo io sto ho goduto con l'Inter dall'inizio non solo adesso perché abbiamo fatto una finale di Champions abbiamo vinto quattro trofei in questi anni quindi è un percorso che ha portato a migliorare io ricordo che il primo anno Inzaghi ha preso l'Inter 32 gol l'Inter di Inzaghi meno dell'Inter che ha vinto lo Scudetto l'anno prima 35 quindi non è che non faceva la fase di pensiva è andato male prima del mondiale il suo secondo anno perché si era cominciato con degli equivoci tipo Andanovic Onana Scrimi ha riportato e c'era una situazione non molto molto lineare e poi permettetemi anche di fare gli auguri a Silvana che ci aiuta sempre abbiamo discusso proprio prima di andare in onda perché c'era un audio che non andava un collegamento che saltava insomma io poi tanti auguri Silvana sempre numero uno brava e devo dire che Silvana nel pre trasmissione è stata bravissima a raccontarci una storia che ha appassionato me Alessandro bellissima quindi un bacione un abbraccio Silvana sei stata bravissima brava grazie a raccontare la storia raccontare la storia sì però l'audio stasera vera ma mancavano gli altri eravamo solo noi quindi non è colpa di Silvana perché gli altri hai messo un particolare Alessandro si è collegato dopo per quello Silvana non ha fatto in tempo a sentire il tuo audio te lo giuro è vero lo so che si è collegato dopo però dico anche sul messenger io cercavo le immagini vabbè è tutta una cosa interna adesso a casa non interessa noi siamo con Silvana noi appoggiamo Silvana tanti auguri Silvana ma lo so ma lo so ma tutti appoggiamo sempre Silvana perché non posso andare perché sennò vado contro contro me stesso perché ovviamente o il marito e moglie siamo siamo in in sintonia anche se a volte facciamo un po' come come ci dicevano Sandro e Raimondo quando nelle prime i primi anni di Interfan TV perché abbiamo adesso ovviamente chi segui Interfan TV lo sa ogni tanto mi dà una mano ma occasionalmente mentre prima ci sono stati anni in cui era proprio la missione sì perché noi avevamo la televisione facciamo i programmi quindi era in regia e lavorava insomma proprio anche dentro la macchina di Inter TV che poi è diventata Interfan TV insomma ne abbiamo passati di anni che ci segue dall'inizio dal 2010 noi abbiamo ecco siamo un trade union tra i due periodi vincenti dell'Inter perché abbiamo visto il finire di quel periodo vincente e nella pazienza di attendere e anche di spiegare devo dire a volte perché io dico questa è la prima web tv degli interisti e lo slogan che è diventato poi quando dopo la pandemia le trasmissioni sono diventate più non dallo studio ma con i collegamenti che sono anche una risorsa perché non dovendolo fare nello studio per esempio ci può essere Alessandro Giovanni da Miami Viaggio Prividera da Roma insomma si possono collegare da tutte le parti quindi è anche un arricchimento secondo me questo non lo studio ma i collegamenti e e quindi si è andato un po' trasformando e allora anche quella che era la prima web tv degli interisti perché adesso ci sono tutti i colleghi che sono sbarcati su YouTube prima non c'era nessuno di giornalisti era in un mondo dove c'erano i tifosi che facevano Viaggio facevano lo sfogo post partita era meglio che se l'Inter andava molto male se perdeva perché adesso lo recuperiamo Viaggio sarà caduta la linea o insomma la connessione visto che stavamo parlando di connessione non felice o si è scaricata semplicemente a batteria dicevo quindi Alessandro che quando l'Inter andava male eccolo qua Viaggio l'abbiamo recuperato dicevo Viaggio in linea per cui si è staccato sì 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 dicevo quando l'Inter andava male da una parte erano contenti perché facevano le visualizzazioni perché tutti volevano vedere lo sfogo alla fine della partita quindi io sono diciamo iniziato a fare le trasmissioni venendo poi dalla televisione con una logica molto più di trasmissioni televisive in quel contesto adesso mi fa anche piacere che ci siano quasi tutti ormai se non tutti i colleghi anche che che hanno il loro canale o fanno i video o fanno trasmissioni e quindi però quindi è rimasto la prima web però sei stato un precursore tu un precursore per quanto riguarda il mezzo ma anche semplicemente perché magari gli altri avevano dei contratti in altre aziende ed era solo un passatempo invece la mia era una strada che mi aveva portato a poter fare informazione quello diciamo secondo me è la parte positiva del web che consente a tutti poi però vabbè poi la televisione e altre e altre realtà però non ho mai voluto lasciare questa diciamo parte che mi ricorda insomma quello che è stato anche l'inizio del progetto e da prima web di punto degli interisti dicevo adesso lo slogan che mi piace ricordare spesso è ti fare informati ma sempre con passione perché qualcuno mi dice ah ma devi rispondere a quello devi rispondere male a quello o peggio ancora fai così quando quello dice io dico ricordo sempre le parole di Facchetti che diceva i nostri punti di riferimento sono sempre stati Frisco con ironia e autoironia Facchetti dicendo di tifare inter con passione non con rabbia e questo mi piace molto come ha scritto qualcuno prima anche nella chat di Simone Inzaghi che per me è un allenatore dell'inter che ha lo stile interista a differenza di alcuni che magari avevano il loro di stile ma nella storia dell'inter diciamo che l'affetto signorilità sapere anche essere resiliente come spesso diceva Zanetti e sapere anche attraversare le tempeste con un certo tipo di non dico aplondo ma con eleganza con educazione con con interismo ecco Inzaghi secondo me è la persona che può veramente fare il ciclo che può stare tanti anni segnando un'epoca ricordo che già oggi il sesto allenatore per presenza è arrivato a 150 come trofei con lo scudetto sarebbe a stai trofei dietro solo a Mancini 7 e Rera 7 poi Ermiro che si pesano Murigno è a 25 ha fatto due anni ha vinto la Champions League però continuando così lunga vita Simone Inzaghi all'Inter perché con la struttura societaria altri grandi interisti adesso si è aggiunto Riccardo Ferri Piero Ausilio Avierzanetti vicepresidente cioè il lato interismo è ben presente in questa in questo nel momento attuale del club e con Inzaghi secondo me ci possiamo rispecchiare benissimo in quello che è la bellezza anche del gioco ma anche lo stile fuori dal campo vorrei una vostra considerazione considerazione su questo perché Viagli tu sei stato il primo insomma sempre anche nei momenti più difficili per Inzaghi l'anno scorso di questi tempi si parlava di Esonero vi ricordate il traghettatore mettiamo O Kivu Ostankovic chi volete vi ricordate la domanda era O Kivu Ostankovic no Inzaghi no Kivu Ostankovic chi volete e e da questo punto di vista lui ne è uscito con la sua di strada ecco nelle varie Inter forse il viaggio non c'era nella puntata forse neanche Alessandro quindi adesso ve le faccio vedere queste Inter che hanno scritto la storia il triplete il record trapp mancini eccetera come caratteristiche c'era un po' di più la personalità la grinta il singolo giocatore di grande talento che faceva la giocata ma come cifra espressione estetica di gioco che è un valore anche un po' soggettivo è vero ma credo che i 73.000 di San Siro siano abbastanza tutti d'accordo così come tutti i milioni oggi l'Inter è arrivata leggevo in questi giorni c'è il record iscritti agli Inter Club 200.000 scondato il muro dei 200.000 quando prima erano 100.000 lo zoccolo duro 90.000 100.000 poi si è andati a 140 150 150 adesso addirittura 200.000 significa tifo organizzato significa tifoso che è partecipe della vita del club non occasionale il famoso occasionale ma tifoso che è partecipe ecco in tutto questo io credo che anche Inzaghi abbia avuto la sua parte perché ha ricercato rimboccandosi le mani che anche dopo che se ne è andato Lukaku se ne è andato Hakimi a cercare attraverso l'unione lui spesso ha detto insieme è una parola che è sempre ha messo davanti insieme quando c'è da elogiare dice la squadra lo staff la società che mi è vicina non si mette mai lui davanti negli elogi persona molto umile e poi l'espressione di gioco che ci sta veramente facendo vedere sul campo quello che altri avevano teorizzato il calcio liquido l'interscambiabilità dei ruoli gli attaccanti che diventano centrocampisti e difensori i difensori che diventano attaccanti gli esterni che vanno in mezzo al campo stiamo vedendo veramente spettacolo a San Siro io soffro a fare le telecroniche dallo studio caro Biagio caro Alessandro a voi una considerazione sul nostro mister che compie 48 anni e gli auguriamo di stare tanti altri anni all'Inter e di vincere tanti altri tropelli vai Biagio allora Michele innanzitutto proprio concordo con tutto quello che hai detto se posso aggiungere giusto un paio di cose io ho sempre sostenuto ogni allenatore dell'Inter sia che mi sia piaciuto che mi sia piaciuto meno perché comunque allenava e difendeva l'Inter questo è il mio modo di fare però devo dirti che posso a posteriori fare poi confronti e differenze e Conte sicuramente gli siamo grati perché ci ha fatto vincere lo scudetto 19 dopo tanti anni in cui non vincevamo quindi sicuramente a dare il suo contributo però a posteriori possiamo dire che c'erano cose che non ci piacevano io quando vedevo il suo continuo in ogni conferenza stampa alla fine piangere e lamentarsi avercela con la società e trovare sempre qualche colpevole per cui sembrava accusare più la società di cui faceva parte non mi sembrava onestamente un qualcosa di bello così come personalmente io non gli perdoni il suo vincere e scappare perché è stato un questo lui ha vinto lo scudetto 19 poteva diventare un eroe dell'Inter come fu Herrera come fu Moratti essendo quello che avrebbe portato lo scudetto 20 aveva il contratto per la stagione successiva in cui si poteva conquistare lui ha preso ed è scappato addirittura negoziando la buona uscita pur avendo lui il contratto un interista questo non lo dimentica io non lo dimentico siccome non dimentico che ci ha fatto il vincere 19 non dimentico né lo stile che aveva né il modo in cui scappava un altro viaggio la motivazione era mi avevano promesso delle cose non sono mantenute top coach top team successe qualcosa che nel mondo non era mai successo per quanto riguarda le conseguenze in Serie A c'è un campionato che si era fermato gli stadi vuoti quindi ricavi che erano crollati quindi non potevi far finta di niente a meno 245 e top coach top team è andato al Tottenham dove lui stesso ha messo al Telegraph qualche settimana fa che i giocatori festeggiamo nel quarto posto ma per lui il quarto posto non può essere qualcosa per cui festeggiare e adesso non stanno piovendo le richieste ci sarà un motivo la Juve e dice no e il Milan e dice no la Roma se De Rossi va bene se lo tiene c'è De Laurentiis che sta insistendo molto e lui siccome ha detto che vuol vincere la Champions col Napoli evidentemente non è così semplice e dall'estero non stanno piovendo se tu col Chelsea va in tribunale Ferguson non voleva sapere Ferguson incidi ancora sulle scelte del Manchester United con l'Inter quello con cui si è lasciato meglio ma dopo tutte le critiche che hai fatto tu alla Juventus il dito media eccetera diventa difficile che all'estero il Barcellona per filosofia di gioco che al Madrid non ne parliamo Real Madrid nello spogliatoio raccolsero le firme dice no se arriva lui no forse uno ti faccio qualche domanda forse uno poi raccoglie pure quello che semine però senza senza contare il fatto che è vero ci ha fatto vincere uno scudetto ma abbiamo fatto figuracce in Champions siamo usciti due volte ai gironi una volta da terzo una volta addirittura da quarti non ci siamo neanche qualificati per la per l'Europa League quindi in confronto se io vedo Inzaghi ha uno stile che mi piace forse lo vedo molto simile al mio stile e alcune volte mi accusano a me e accusano Inzaghi di essere aziendalisti come se fosse un qualcosa di negativo io sono sempre stato fiero di essere aziendalista per l'azienda per cui ho lavorato devi lavorare per fare 20 anni che era quella che mi pagava e mi dava da vivere quindi il fatto che Inzaghi consideri sua e lavori per il bene dell'azienda e invece di piangere o sparargli addosso perché non gli danno quello che lui esattamente vuole quindi io apprezzo lo stile di Inzaghi è uno che crede in se stesso nonostante sia considerato mite perché è uno che nel momento difficile quando tutti dicevano come ha detto bene ah ma va Kivo Stankovic ormai è licenziato ha continuato per la sua strada che ci ha portato fino alla finale di Champions dove per un niente dove tutti pensavano che ne avremmo presi quattro da City che ne aveva dati quattro a grande Real Madrid invece ce la siamo giocati in pieno e poi quest'anno qua davvero l'anno storico speriamo tutti come ormai è vicino della seconda stessa che dicevano con Inzaghi lo squirt è impossibile vincere perché ci sono 14 non subiti in 30 giornate no Inzaghi solo buono per le sfide dirette quindi non potrà mai vincere un campionato dove ci vuole continuità lui è buono nelle partite dire nella Supercoppa che è una con la Juve questo è abbattuto una volta la Juve quest'altro dato che fa impressione il Milan che ha il record dei gol subiti l'Inter dei record aveva 14 gol subiti nello stesso momento il 19 alla fine questa Inter era 14 alla trentesima a 34 giornate il Milan di Capello 93-94 prese solo 15 gol quindi simile a questa Inter come gol subiti sapete quanti gol fece l'Inter di Capello che prese solo 15 gol 36 sapete quanti gol ha fatto l'Inter di Zaghi 73 più del doppio più del doppio più del doppio più del doppio ha pochi gol subiti perché è una squadra ermetica solidissima non prende gol vince i partiti difficilmente tu hai una squadra come ha scritto il tifoso prima che leggevo che gioca bene gioca in avanti con tre numeri 10 a centrocampo con tutti i giocatori che si inseriscono che quindi fa sempre cento gol o più all'anno ma contemporaneamente non subisci i tiri quante partite abbiamo detto Sommer non ha fatto una parata Sommer è spettatore ovvero adesso ha fatto i due pc cioè quindi questa è stata l'evoluzione assolutamente e per chiudere per chiudere dico che vedrete mi hanno scritto durante l'anno eh ma vedrai Biagio sicuramente lui se vince se ne va se ne va perché vorrà monetizzare andrà in Premier League io dicevo vedrete non è conte conte è quello che vince e scappa Simone vince e resta e vedrete a fine campionato prolungherà il contratto fino al 27 io sono convinto davvero che può essere un allenatore che resta tanti anni all'Inter come era rimasto tanti anni alla Lazio io spero che si apra un ciclo il mio sogno è che diventi davvero il Ferguson italiano cosa che in Italia è rara che si rimanga tanti anni che possa restare tanti anni tante belle vittorie io ne sarei contento penso che rappresenti al meglio lo stile dell'Inter sì sì anch'io da Alessandro una considerazione su Inzaghi anche sul gioco magari di cui abbiamo parlato un po' meno parlando più della persona non so una cosa che ti colpisce della valorizzazione perché lui aveva detto quella famosa frase pre-Inter-Roma dove si parlava già di di Esonero pure là se vi ricordate Inter-Barcellona poi un a zero del 4 ottobre fu la partita in cui c'era la Novlu che per sostituire Brozovic ha iniziato il percorso da regista definitivamente lui disse forse fu una una uscita non nello stile di Inzaghi però anche lui perse la pazienza a un certo punto dice inizio campionato già qua tutti contro e disse dove vado io arrivano i trofei aumentano i ricavi sembrava una un po' una cosa dice adesso se la vuole tirare e alla fine gli anni successivi è questo il deficit si è dimezzato anno per anno i ricavi sono cresciuti gli sponsor pure e la squadra è migliorata nel gioco e nei risultati quindi ciao intanto diamo gli auguri al mister speriamo che possa festeggiare tanti compleanni qui con noi intanto per quanto riguarda il gioco è cresciuto tanto anche l'anno scorso giocava bene però la fase difensiva era un po' quella che ci preoccupava un po' di più perché come diciamo dei numeri buoni l'anno scorso qualche campionato soprattutto era un po' così adesso ha trovato una quadra pazzesca adesso i numeri li hai detto tu prima 14 gol in 30 partite gioca bene lascia stare che adesso è un po' magari stanchina perché è fisiologica la cosa e ci sta un mini flessione con 14 punti di vantaggio poi te lo puoi permettere ma ha trovato una quadratura incredibile cioè gioca bene al calcio ok e non prende gol cioè io per un tifoso penso che sia il massimo vedere la propria squadra vincere giocare bene e non prendere gol adesso quando l'Inter prende gol non avete una sensazione di amaro in bocca voi io non sono abituato dico ma cos'è sta roba abbiamo preso gol poi dico vediamo se le sensazioni con l'Atletico e con il Napoli cioè di eliminazione o sconfitta addirittura negli ultimi minuti e pareggio erano delle veramente uno stato d'animo che non si erano più 13 vittorie nel 2024 cioè il miglior inizio di anno solare mai scrivono vedi perché ci sono quelli che a furia di leggere di leggere adesso qual è stata il terrorismo di oggi i rinnovi sono congelati Varela e Lautaro non si sa se rimarranno si aspetta il Sinizzare Lautaro scade non nel 25 ma nel 26 giusto? ma oggi siccome ci sono anche delle partite è normale che il contratto se tu fai massimo il quinquennale che scade nel 2029 a fine stagione vai a rinnovare con l'ufficialità Marotta Ausilio a novembre scorso hanno rinnovato anche lì era in pieno discorso zang non zang e c'è stato un segnale forte oggi tra l'altro Lautaro ancora non c'è nemmeno l'accordo quindi stanno trovando il bonus la cifra in più e poi si andrà al rinnovo perché non è un argomento da terrorismo perché possono pure rinnovare per 50 anni non 5 ma se arriva il club che li accontenta su un aumento perché ci sono club che possono offrire non 8-9 milioni a Lautaro o a Barella 6 o 7 non è quello il punto se gli offrono 20 come guadagnano alcuni top player internazionali magari loro dicono di sì a quel punto l'Inter col contratto ti dice voglio 100 voglio 120 voglio 150 quindi è veramente un modo di indurre le discussioni su determinati temi dove poi molti anche i miei colleghi ovviamente vanno dietro perché vabbè che l'Inter vince ed è forte in campo l'abbiamo già detto non fa ascolti se invece parliamo del oddio verrà smontata finisce tutto c'è il pericolo all'orizzonte e quello fa più discutere allora su Inzaghi ancora per chiudere il discorso e poi andiamo un po' sulla programmazione poi devo salutare anche il viaggio Simone Inzaghi festeggia oggi 48 anni scrive adesso l'Inter un piccolo augurio tratto di un piccolo così una una pennellata di descrizione sul mister e quello che ha fatto in questi tre anni nato il 5 aprile 76 il tecnico nerazzurro e la sua terza stagione sulla panchina dell'Inter tre anni ricchi di successi trofei ed emozioni indimenticabili ecco tra i vari successi la capacità di essere competitivo con qualsiasi squadra viaggio ricordava il Manchester City ma la prima cosa che è cambiata l'Inter è tornata agli ottavi di Champions ha iniziato a vincere le finali di qualsiasi coppa giocando in un certo modo la Juventus non era più lo spavolo vi ricordate prima Inter-Juventus era una partita storicamente difficile con Inzaghi che è stato quello che ha battuto di più la Juve nella storia degli allenatori nelle finali Inter-Juventus è stata una partita che vinci più tu che non loro i derby non ne parliamo abbiamo detto il record nella storia di 5 derby consecutivi e appunto adesso anche la chiusura del cerchio della continuità in campionato con la fase difensiva che è diventata da record emozioni indimenticabili passione e determinazione sono gli ingredienti fondamentali nel lavoro di Inzaghi che ha guidato l'Inter alla vittoria di tre supercoppe italiane due coppe Italia riuscendo a esprimere un gioco spettacolare e collezionando risultati impressionanti il successo contro l'Empoli nell'ultima partita ha permesso a Simone Inzaghi di conquistare la centesima vittoria con l'Inter in 150 panchine un traguardo straordinario nel giorno del suo quarantottesimo compleanno Simone Inzaghi riceve i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter e noi lo facciamo anche ricordando alcuni numeri straordinari di Inzaghi perché cento vittorie prima di Inzaghi se consideriamo la nascita del girone unico 29-30 della Serie A la troviamo solo con più vittorie Herrera 205 Mancini 176 e Trapattoni 124 poi per quanto riguarda le presenze dicevo sesto se consideriamo in totale anche Arpad Weiss perché ha fatto tre bienni quindi sei anni è Leonie Herrera Mancini Capattoni Bersellini Weiss e appunto Inzaghi sulle 150 partite le 100 vittorie sono in campionato 73 vittorie 16 pareggi 17 sconfitte in Coppa Italia 8 vittorie 2 pareggi 1 sconfitta quella di quest'anno col Bologna e supplementari in Champions League 15 vittorie 7 pareggi 7 sconfitte in Supercoppa 4 vittorie 0 pareggi 0 sconfitte totale 100 vittorie 25 pareggi 25 sconfitte pensate in Serie A per chi ha raggiunto 300 partite alla media punti più alta di tutti più di Allegri di Ancelotti ha vinto più partiti di Allegri e Ancelotti che seguono secondo e terzo non distanziatissimi tra chi ha fatto almeno 300 partite e siamo un allenatore che ha 48 anni che per un allenatore è un'età diciamo abbastanza giovane Marotta dice spesso questa cosa dell'età giovane perché quando si dice Ancelotti no andiamo a vedere il numero di anni in panchina 5 alla Lazio 3 all'Inter quindi 8 il numero di trofei e andiamo a vedere anche l'età caro Biagio noi qualche puntata fa avevamo messo l'Inter dei record con l'Inter del triplete a fianco a quella di quest'anno con i ruoli un po' diciamo abbiamo per fare i paragoni ci sono stati per esempio abbiamo avuto qualche giocavano con moduli diversi quindi c'è la riga diciamo di Bianchi Zanetti Panda e Vettimarco dove abbiamo messo diciamo l'ala tattica il tutto fare l'esterno del 4-2-3-1 che ha inventato Murigno e Di Marco che è uno che ormai non si capisce più se va centrale destra sinistra ma ovunque sono tutti abbastanza paragonabili ci sono dei doppioni che però per esempio Zanetti va nel triplete persino sinistro e nei record di Mancini centrocampista del rombo maicon che sia con Mancini che con Murigno come Giulio Cesare insomma cambiasso poi noi avevamo detto è difficile trovare uno dell'ultima colonna che viene scelto in un ruolo rispetto agli altri tre quindi questo che vuol dire che l'allenatore ha fatto un ottimo lavoro perché se questa qua può essere affiancata anche nei paragoni nel gioco nei record eccetera vuol dire senza avere l'interfete che batte gli altri però volendolo trovare uno che ci sta bene anche nelle altre o nell'inter del triplete o in generale quali sono due tre nomi che voi fareste noi abbiamo fatto nelle puntate scorse dall'ultima colonna che se la possono giocare anche con i margini di crescita che possono avere i bastoni i barella i lautare eccetera sì sono sempre confronti difficili tre poche diverse moduli differenti qui parliamo tutti di grandi giocatori e soprattutto di giocatori che sono tutti nel nostro cuore ognuno di questa stagione chi non ricorda l'inter record e poi gli scudetti consecutivi con Mancini triplete di Mourinho e adesso la seconda stella quindi è sempre è sempre difficile penso che sarebbero tutti quelli di adesso stati comunque bene nella rosa di quegli anni e poi l'allenatore avrebbe saputo trovarli un ruolo un Cialanoglu il Cialanoglu che vediamo quest'anno avrebbe trovato probabilmente posto in in qualche in qualcuna di quelle formazioni hai dei preferiti in viaggio di questa Inter o di giocatori per esempio quando si parla così ti faccio rispondere e poi ti saluto dell'ultimo argomento che poi adesso svisceriamo con Alessandro per arrivare poi alle prime pagine dei giornali c'è la programmazione quindi andare a trovare il tassello se è possibile ancora migliorare questa squadra e abbiamo detto che c'è la possibilità che arrivi qualcuno e può fare anche la grande offerta quindi una cosa è quello che tu programmi un'altra cosa è devo farmi trovare pronto se dovesse succedere innanzitutto devono essere felici all'Inter ed hanno detto Bastoni l'ha detto Barella l'ha detto Lautaro siamo felici all'Inter tanto che stanno o hanno già rinnovato stanno trattando il rinnovo ma non si sa mai per le offerte che possono arrivare tra squadre che fatturano più di 800 milioni l'Inter ne fattura la metà quali secondo te sarebbero più insostituibili degli altri cioè hai una una classifica o di giocatori preferiti di questa Inter o di insostituibili o di più difficili da sostituire magari guarda Michele ti rispondo questo che proprio le esperienze degli ultimi anni e quello di una vita ma gli ultimi anni lo hanno confermato in pieno non esistono giocatori insostituibili mi ricordo benissimo che tutti dicevano Brozovic è insostituibile quando se ne entra Brozovic che succederà Skriniar Skriniar deve fare il capitano Skriniar è insostituibile in quella difesa che succede se se ne va Skriniar è il vile traditore lì davanti no deve restare assolutamente e sarà difficile sostituire e così via la realtà è l'esperienza mostra che non esistono giocatori insostituibili per nessuna squadra quindi io mi auguro ovviamente che i nostri campioni i vari Lautaro Barella Bastoni quelli che sono probabilmente più ricercati all'estero da Premier League che avranno probabilmente la tentazione io mi auguro che restino però da sicuro se dovessero andare via io mi fido che Marotta troverà un sostituto l'ultima osservazione che volevo fare guardando questa formazione se io vedo le grandi squadre europee guarda quanto sta spendendo il Real Madrid sembra 200 milioni soltanto per Mappé quello che ha peso per Bellingham e così via noi abbiamo fatto questa squadra con gente che era stata scartata da Roma e Lazio non da Real Madrid a Cerbi era considerato ormai finito aveva litigato con l'ambiente era vecchio Mkhitarya Mkhitarya era considerato ormai nella fase calante della carriera entrambi sono venuti a parametro zero nel Roma nel Lazio per Cerbi quasi diciamo con riscatto a 4 milioni parliamo di poca di poca roba e comunque con poca roba c'è Sommer c'è costato comunque una cifra quello prima l'abbiamo venduto a 50 guarda quanto abbiamo speso per Sommer Turam c'è venuto a zero quindi se noi pensiamo a questa squadra che comunque è stata arrivata in finale di Champions quest'anno è uscita a rigori sarebbe potuta andare avanti che sta dominando il campionato l'abbiamo fatto non spendendo cifre folli ma cifre in maniera intelligente e ripeto prendendo giocatori lo stesso Cialanoglu di cui si parla parla traditore è uscito un'intervista da tempo fa di uno dei dirigenti del Milan che diceva sì in effetti non erano i nostri i piani non è che ci tenevamo tantissimo a tenerlo a tutti i costi ed è venuto da noi è diventato uno dei giocatori insostituibili penso che questo vada tra quelli che sono come ho chiesto anche Alessandro Scanziani tra quelli che sono oggi in rosa Arnautovic e Sanchez chi è nella della proprietà dell'Inter dai vari fratelli Esposito Ristanio ma soprattutto Valentin Carponi tu faresti di necessità virtù cercando di far crescere chi già hai oppure la strategia di dire faccio un tesoretto con quelli che ho per andare più sul sicuro nel senso di avere una coppia d'attacco alternativa all'autoroturam di gente un po' più pronta come potrebbe essere la coppia Taremi Gudmundson per esempio però pensare di perdere un 2005 insomma è anche una una scelta a me Gudmundson piace piace molto quindi pensare di avere Lautaro Turam Taremi e l'islandese non mi diffiacerebbe allo stesso tempo penso che avere un quinto l'anno prossimo in cui potremo giocare fino a 70 partite in cui potremo giocare fino a metà luglio e la Champions League avrà 8 partite nei gironi invece che 6 quindi un anno che sarà particolarmente impegnativo e gli infortuni sono sempre dietro l'angolo e comunque ci sarà da fare turn over da tenere un Valentin Carboni che tra l'altro ha giocato pure nella nazionale argentina non nella nazionale di Malta o di di una piccola squadra io noto che in Italia si investe o si dà poca fiducia ai giovani quando hanno ancora 20-21 anni è ancora un giovane ma andiamo a fare 3.000 esperienze e tu puoi vedi il Real Madrid o il Barcellona vengono da noi e mandano in campo un 18enne è possibile che non esca mai da noi un 18enne 19enne su cui investire quindi forse un piccolo rischio lo prenderei là se un giocatore riteniamo che abbia potenziale senza dover aspettare che compie 25 anni sì io credo che sia Valentin Carboni che il Diz nella Juventus su due 2005 potrebbero essere due segnali di due squadre insomma che vanno a mettere nella ruota di prima squadra due giocatori che faranno molto bene tra l'altro adesso abbiamo parlato tanto di tutto sport abbiamo detto di di giuntoli che dovrà insomma fare ancora di necessità virtù devono valutare Allegri se rimane o non rimane ti lascio un viaggio con questa suggestione Juver e Tecchi contatto per affiancarlo a Blauic questo significherebbe però non avere uno delle una delle punte magari fare cassa con Chiesa perché Blauic può chiestare quindi insomma di necessità virtù devono fare anche gli altri eh parlando di giuntoli mi viene subito in mente De Laurentiis che è una persona che vuole entrare in più piccolo dettaglio il Deus Ex Machina del Napoli che vuole comandare e all'improvviso scopriamo che lui dell'acquisto di Osimène aveva delegato completamente è tutta colpa di giuntoli lui non sa niente di più svalente interessante questo fatto interessante ho visto la musichetta che hai messo simpatica adesso poi mi dovete mi dovete spiegare che tutto sport no dacci oggi il nostro guaio quotidiano no da interisti e noi ormai lo guardiamo anche ormai lo sappiamo perché è divertente questo però me lo dovete un po' spiegare magari si capirà nell'intervista non lo so intervista a Biol allora intanto in taglio alto prima gli dicono l'Inter vuole buongiorno poi il buongiorno il toro ti fa premier e quindi la solita la solita storia no dell'Inter vuole questo l'Inter vuole questo ogni giorno l'Inter vuole uno poi dicono che però l'Inter non ha i soldi per prendere e quindi vi ricordate Spalletti mi sono improfumato sono andato anche al cancello da Piano Gentile per accogliere all'epoca erano Di Maria Vidal ma non c'era nessuno non c'era nessuno poi l'Inter beffata il famoso titolo l'Inter vuole 70 giocatori non so non c'è lo spazio per 70 giocatori e poi è beffata 68-69 volte lui c'è dice non arriva buongiorno non arriva adesso si è parato di Beuche ma del Bologna oppure Biol questo domani intervista Biol dagli sci come sinner all'Udinese Inter occhio non lo so ditemi voi se si capisce facilmente io non tanto lo capisco magari sono io che non però Inter occhio dagli sci in vista di Udinese Inter Inter stai attenta ma che vuol dire dagli sci come sinner perché forse aveva prima di passare al calcio anche lui faceva lo scelatore 3-0 ah e no perché allora io mi ero perso che sinner faceva lo scelatore per quello si 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 no sinner lì il pari dice sempre lì poteva essere un ottimo scelatore o un ottimo però dagli sci come sinner Udinese Inter occhio e vabbè ho capito allora perché è stato uno scelatore come sinner dagli sci poi è arrivato all'Udinese però perché Inter occhio perché c'è Udinese Inter è un capito è pericolo perché ha segnato l'anno scorso segnò tra l'altro il primo gol in seriato però Inter occhio avvio magari occhio perché me lo go ma beh occhio inter attento che devi giocare contro un vape stai attento occhio dai ma ogni giorno ogni giorno ce n'è una ridicola dai però non c'è oggi non ci sono non ci sono fallimenti oggi non si parla di zanga di fallimento però oggi un giorno c'è anche Wanda con la felpa bianconera che spinge i carri questo l'abbiamo notato sui social su Instagram magari c'è qualcosa sotto e magari vuole proporsi anche lei in attacco per i cardi al la coppia i cardi dei tegri con Vlaovic e Chiesa fanno cassa e chissà chissà mai dire mai mi piace sempre un piacere veramente averti in collegamento ti ringrazio ti abbraccio spero di vederti presto per qualche festeggiamento da qualche parte diceva i corbi i tifosi di calcio hanno un vantaggio prima o poi si incontrano perché vanno negli stessi posti negli stessi luoghi no ci si incontra ci si incontra sempre quindi sarà un piacere e magari ci incontriamo in Piazza Duomo la sera del festeggiamento quello sarebbe Alessandro se tu magari vieni da quelle parti sarà un piacere l'oggetto al Bausha Sergio che conosce anche Michele che probabilmente se riesco a fare una mattata delle mie prendo un aereo e vengo dai sentiamo ci incontriamo tutte e tre da quelle parti sto zitto ma vediamo vai vai è sempre un piacere comunque mi fai fare notte ma a parte questo è sempre un piacere la prossima volta prometto che all'entrino tranquillo tranquillo domani non si lavora arrivederci viaggio viaggio ciao ciao grazie viaggio allora chiudiamo questa prima pagina visto che l'abbiamo abbiamo vista abbastanza però ti vado a dire un po' del sottotitolo su buongiorno perché il toro ti fa premier c'è la volontà di trattenerlo ma le big d'italia ed europa sono in azione la valutazione di 40 milioni frena le pilanesi i rossoneri dovrebbero cedere un top player l'inter punta al prestito con obbligo di riscatto e studia le contropartite da esposito a carboni ti piace ti piace il giorno te si Luca scrive buonanotte non so se per buongiorno buonanotte allora poi primavera coppa italia alla fiorentina 5 a 3 rigori sul torino la coppa italia primavera a me fa un po' storridere dice l'inter prende Gudmundson con Valentin Carboni e recompra il tesoretto poi prende buongiorno con Valentin Carboni con recompra il tesoretto quanti tesoretti c'ha l'inter un altro tesoro io credo che partendo da questa realtà cioè i verbi Audero giallo Dumfries giallo Arnautovic giallo quelle sono le tre diciamo situazioni da andare a a vedere perché sui rossi Klasten Sensi e già c'è Zelisky numericamente diciamo una punta che esce è già sostituita da Zareni e Quadrado sarebbe già sostituito da Buchanan con Darmian che è andato da quella parte oppure oggi leggevo delle prove di Inzaghi con Bissek che ha giocato già nell'Araus centro-sinistra e potrebbe tornare in questa fase fina di campionato a essere testato sul centro-sinistra quindi con Bissek sul centro-sinistra Darmian come già lo mettiamo pure noi tornerebbe a fare l'alternativa Pavard Carlos Augusto scalerebbe dove già lo mettiamo vicino a Di Marto meno vicino a Bastoni e Buchanan sarebbe pure liberato per poter tornare a destra è un'ipotesi è un'ipotesi ma la duttività dei giocatori dell'Inter tra Darmian e Carlos Augusto soprattutto che noi sono gli unici due che mettiamo in due ruoli perché sono duttivi ma anche Buchanan può giocare destra e sinistra quindi i gialli sono la priorità quindi non il difensore ma perché si parla del difensore perché in ottica 2025 che l'Inter è così avanti nella programmazione che sta pensando già al 2025 e allora Fabian a 12 milioni che può essere una mezzala in più perché Michi Italian adesso ha firmato un biennale ma il secondo anno è da vedere come andrà il 24-25 a livello fisico e quindi l'Inter comunque avrebbe già una mezzala dal 2025-26 a solo i 12 milioni e sta segnando anche in serie A dopo aver segnato in serie B sul centrale di difesa a Cerbi 36 anni e De Vrij 32 nel 2025 ci sarà da fare una valutazione e quindi anche lì io non credo che si andrà a fare il grande sborso sul difensore centrale sull'esterno destro dipende da Dunfriss che per me potrebbe pure andare a finire come De Vrij l'anno scorso che voleva pure prendere in considerazione una nuova avventura ma alla fine se l'alternativa all'Inter la massima alternativa è stata il Viglia Real dice allora io sto bene a Milano gioco per i trofei resta all'Inter se era il Real Madrid o il Bayern Monaco il Manchester City posso capire non era il caso è rimasto all'Inter così come Dunfriss che ha sparato alto i suoi agenti poi adesso magari non avrà l'offerta della vita al Manchester United il Tenag stasera ha perso pure col Chelsea è molto in bilico quindi tante squadre sono coperte il Bayern Monaco ha preso il terzino destra a gennaio quindi potrebbe pure alla fine rimanere Dunfriss e questo secondo me però se rimane Dunfriss con Buchanan e lì a destra poi devi darne via uno chi dai via? Bissek no? al quadrato che va in scadenza sarebbe Dunfriss e darne via la destra Di Marco e Buchanan perché poi dietro lì come fai? Pavard, Bissek Pavard, Bissek a Cervi, De Vrij bastoni Carlo Sogusto e Di Marco più Cana da sinistra mi sembrano tanti perché Carlo Sogusto e Darmian li ho messi in tutti e due i ruoli dove possono giocare poi io non escludo ancora che Quadrado possa anche strappare un altro anno di contratto se dà le garanzie fisiche come dicevi tu prima però i due punti dove l'Inter se riesce a fare il tesoretto deve intervenire non sono il difensore centrale o l'esterno o il centrocampista l'esterno perché alla fine Dunfriss può rimanere e se non rimane porta i soldi ma sono gli altri due gialli cioè il portiere il secondo e la punta il portiere perché si lavora anche qui sul 2025 ma se vogliamo pure il 2026 perché per me Sommer dopo l'Europeo punterà il Mondiale lui ci tiene tantissimo e secondo me Sommer al 2026 arriva sicuro è un maniaco della forma fisica e un portiere a 38 anni può arrivare oggi ne ha 36 ovviamente presto per dire 2025-26 ma l'Inter ha due piani uno di prendere il portiere subito per vedere già quest'anno se gli toglie il posto a Sommer poi nel giro di un anno oppure lo rimanda l'investimento all'estate 2025 e lì nell'anno 25-26 ultimo anno di contratto di Sommer il portiere acquistato a Naturino 25 deve poi puntare a togliere il posto quindi non prendere un secondo ma prendere un futuro primo i nomi di Bento e di Gregorio che però costano una ventina di milioni e quindi ad oggi non sono per niente scontati che possono arrivare in questa estate dall'altra parte c'è quello che dicevamo su Gudmundson o la seconda punta o un attaccante in generale in più quindi in quel caso se Sanchez non rinnova Valentin Carboni va a fare un altro anno Arnautovic e Correa perché anche Correa torna indietro dal Marsiglia Arnautovic e Correa devi provare anche in qualche modo non sono cifre altissime Arnautovic 4-5 milioni dopo un anno di ammortamento Correa 8-9 milioni dopo tre anni di ammortamento però una stagione non positivissima per Arnautovic e nemmeno anzi molto negativa per Correa al Marsiglia non sarà così semplice per te qual è la priorità tra portiere difensore centrale del futuro esterno destro o attaccante 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 perché quest'anno vabbè adesso sono un po' di partite che Turam è giù Lautaro fisiologico è giù e comunque con l'aumento delle partite dell'anno prossimo servono le punte c'è niente da fare tu adesso hai sicuri hai salvo offerte faraoniche c'hai Turam Lautaro Taremi tu questi qua hai questi tre punti fissi qua benissimo se butti dentro un Gudmundson sono quattro è un attacco da otto e ci metti dentro il ragazzino lì perché poi più di quello cosa vuoi fare quello lì del Monza Carboni quello devi fare secondo me poi il discorso del difensore è quello lì non è un brutto pensare sai perché comunque a Cerbi farà un altro anno la grande poi comunque devi e Debrai scala saranno buongiorno facciamo l'esempio e Debrai e a Cerbi si ritirerà o andrà via comunque non è un brutto via Cerbi prima del casino della storia di una triste storica di Juan Gesù eccetera abbiamo scoperto con l'amico e collega Pasquale Guarro con cui tra l'altro domani ci vediamo sul canale Twitch di FC Inter 1908 che a Cerbi aveva raggiunto praticamente Pastorello l'accordo fino al 2026 perché Inzaghi lo staff di Inzaghi lo valuta molto bene anche dal punto di vista fisico quindi io non escludo che a Cerbi anche con un'età diversa possa andare a prolungare a differenza di Debrai che ha già due più uno e allora dai via Debrai che prendi buongiorno io lì comunque se ci fosse la possibilità secondo me buongiorno è impossibile perché se fa un europeo decente va a 40-50 milioni in premio costa troppo è vero che anche il Milan ci ha provato a gennaio ma pure il Milan si è spaventato di fronte ai 40 perché il Milan deve spendere 50 per la punta costa troppo è suggestiva la cosa però di collaborare in quella direzione mentre questi Biol e Beuchema Bologna e Udinese Udinese e Bologna perché Biol dicevamo prima dagli sci come Sinner all'Udinese Inter occhio intervista a Biol che segnò proprio con l'Inter il gol l'anno scorso Udinese poi Palladino Viola Gila e il futuro al Genoa bisogna capire si parla di Palladino come erede di italiano che a sua volta se De Laurenti si non convince Conte italiano andrebbe al Napoli con un'altra direttore poi ciclismo Maxi caduta da paura Vingegaard shock nel giro dei Paesi Bassi tappa neutralizzata Vingegaard shock cade ma è cosciente il danese ricoverato con l'ossigeno KO pure Evan e Paul operato in Belgio Evan e Paul operato in Belgio intanto tennis intervista a Vavassori a Monte Carlo sull'Onda Sinder Jannic stimolo e unità di misura per tutti in doppio con Bolelli punto le final oggi quattro italiani in campo intervista a Vavassori chiudiamo il discorso di buongiorno dove abbiamo detto che l'Inter può studiare contropartiti da esposito a Carboni e questo era il discorso Torino chiudiamo tutto sport col discorso Juventus colloquio in corso per il bomber del Genoa e della nazionale che potrebbe affiancare Vlaovic Juve retegui contatto Ken ai saluti Milic in bilico e banda in felpa bianconera spinge i carri Dusan resterò qui a lungo la sala trofei del G Museum mi emoziona sogno di portarci la Champions il sogno di Vlaovic e quello di tutti i tifosi juventini insomma che aspettano dal novantasei sono ormai venti ventotto ventotto e sono anzi sicuro ventinove perché si arriverà al duemila venticinque dove già Allegri ha detto che con la formula nuova del tabellone tennistico sarà molto più difficile se non quasi impossibile per una squadra italiana vincere ecco già si ha messo le mani avanti già per l'eventuale conferma Allegri quindi diciamo della punta tu Gudmundson lo vedi ti piace è un bel giocatore è un bel giocatore quanti anni ha ventisei ventisette sì ho novantasette poi volevo rispondere a che diceva scusa ma Biucanone è un po' diverso da Di Marco uno è mancino l'altro deve rientrare col piede come fa ad essere alternativo a sinistra io lo vedo bene a destra intanto tanti possono giocare in diversi ruoli per ora ha fatto tre spezzoni a sinistra proprio perché l'Inter se vedi anche Di Marco che è mancino ma non va solo sul fondo a crossare spesso va bastoni perché l'Inter imposta a quattro con bastoni e Pavard che fanno i due terzini Cialanoglu che si abbassa dove c'è Acerbi e diventa una difesa a quattro davanti a loro soprattutto Di Marco e Darmian non vi faccio degli esempi Darmian il gol con il Napoli era al centro dell'area di rigore centralissimo Di Marco il gol adesso l'ultimo con l'Empoli al centro infatti non marcato perché perché sugli esterni vanno i terzini che sono Pavard e bastoni con gli esterni che invece vanno in mezzo al campo a maggior ragione Ducan che va con il destro a dribblare a puntare con le sue caratteristiche poi ognuno ha le sue caratteristiche frattesi non è come Barella come caratteristiche Zelisky non è come Mkhitaryan Darmian non è come Dufris ognuno con le sue caratteristiche possono però giocare benissimo in quella zona tanto che per ora Biucanan è stato impiegato tre volte a sinistra su tre Michele l'audio di Alessandro è molto più alto rispetto al tuo grazie lo so purtroppo con i collegamenti non è sempre facile avere la stessa intensità quindi dicevamo sulla punta sulla punta ci sarà da riflettere anche su Arnautovic e Sanchez io Alessandro dico che se dico se non si riesce come l'anno scorso arrivare a una punta che convince per la valutazione per esempio mettiti che Gudmundson e interviene il Tottenham e la valutazione arriva a 40 io non andrei ad inseguire un giocatore se il costo tu non lo ritieni quello giusto come l'Inter non ha fatto con ti ricordi l'estate scorsa Baloghan Scamacca e tanti altri che si diceva valgono troppo mentre di Pavard loro dicevano per me vale quei soldi quindi io faccio l'investimento dove penso che vale così io dico se l'Inter riesce a prendere Gudmundson al prezzo giusto va benissimo se non è il prezzo giusto prezzo giusto qual è 25 per me dipende se metto le contropartite se metto le contropartite con un obbligo di riscatto può anche arrivare a 30 però con la contropartita con la contropartita di almeno 6 milioni 7 milioni un giovane con prestito con obbligo di riscatto come l'operazione frattesi mulattieri valutato valutato 6 più il riscatto quello che quello che volevo dire è che se non riesce a prendere a prendere l'attaccante perché non c'è l'attaccante a quel prezzo allora io ho il piano B in attacco e cioè confermo uno tra Sanchez e Arnautic per me tutta la vita Sanchez perché è pronto a entrare a gare in corso a differenza di Arnautic fa più movimento a tecnica può fare il trequartista ti può dare il cambio modulo poi se andiamo a vedere Sanchez fino a Natale è stato impiegato pochissimo Champions ha fatto spesso ha giocato dove ha fatto più turnover in Zaghi in Champions nel girone e ha fatto due gol in poche partite mentre in campionato in Supercoppa italiana ha iniziato ad avere più spazio da gennaio in poi dove pure là inizia a fare un paio di gol due o tre assist ha partecipato ad azioni come il 4 a 2 a Roma nel finale o in altre azioni insomma tra febbraio e marzo Sanchez qualcosina in più si è visto perché? perché ha fatto più un minutaggio Arnautic ha avuto due infortuni di un mese e mezzo un mese un mese e mezzo e non è uno rapido nel breve per il fisico che ha bisogno di essere secondo me più titolare poi ho Valentin Carboni allora metto Valentin Carboni e Sanchez se ne ho 5 ho l'esperto e il giovane secondo me diventerebbe un parco attaccante lo stesso completo non faccio l'investimento che faccio mi porto avanti in porta dove secondo me se porti a casa Bento Di Gregorio a 18-15 18 milioni perché su Di Gregorio c'è la percentuale sulla rivendita proprio a favore dell'Inter secondo me metti a posto un ruolo anche per il futuro con Bento 99 di Gregorio 97 poi ieri Carnesecchi ha fatto una prestazione a me Carnesecchi mi fa impazzire lo dicevo anche ieri prima della prestazione e quindi secondo me quelli sono i focus il portiere se ti porti avanti su un centrale che però ripeto secondo me il centrale si può anche rinviare al 2025 se devo prendere il primo che passa cioè se non sono convinto se poi la punta si riesce a fare addirittura il miracolo di non perdere definitivamente Valentin Carboni e di arrivare a Gunsson allora lo fai però non è facile non un incastro facile allora a proposito di incastri e anche di nomi per le altre squadre di Girandola degli allenatori partiamo ancora da la rassegna per domani intanto si gioca sabato il derby di Roma è un turno di campionato che si concluderà con Udinese Inter lunedì l'altro vi ricordo che sarò nel post partito dalle 23 e 40 23 e 45 qua su Interfan TV dopo il processo di Netweek il processo di Biscardi dove sarò collegato per la cronaca e tra domani e domenica invece ci saranno un paio di video di aggiornamento qua su Interfan TV il derby finale domani domani sarebbe sabato alle 18 questo Roma-Lazio decide il futuro dei suoi interpreti per Di Bala Lukaku Ciro Immobile Felipe Anderson e Luis Alberto può essere l'ultimo sono in bilico anche Spinazzola Smalling Llorente Pedro Desino Kamadà e forse Zaccani con tutti gli incastri di una vigilia mai vista in 62.000 all'Olimpico la partita che dopa le emozioni scrive Ivan Zazzaroni sarà un derby speciale come soltanto i derby possono esserlo soprattutto in questa occasione per merito di De Rossi e poi continua all'interno certo che da Mourinho e Sarri si è passati a De Rossi e Tudor è un po' diversa otto partite per lasciare il Napoli in Europa Ostri si muove il PSG Lo Sceico in prima fila il club francese che in passato prese Cavani Ravezzi e Fabian Ruiz si avvicina al valore della clausola il centravanti può diventare il sostituto di Mbappé quindi Ossimena al Paris Saint Germain e Dela incontra la squadra chiudiamo in bellezza dice Juve lo stadio e con Allegri Max ha un alleato il sostegno del pubblico a tecnico e squadra non manca mai l'Allianz si riempie al 96,1% finora 16 sold out su 18 partite e 57 milioni in caso io aggiungo pure se con 40.000 41.000 di capienza non fai il 96% fai veramente ridere città come Torino la Juve Niccolò senza limiti Inter Barella fa il Maratoneta il centrocampista al top della forma grazie al lavoro speciale svolto a fine gennaio adesso vuole lo scudetto della stella e un europeo da protagonista Inzaghi intanto ritrova Arnautovic per il rush finale eccolo qua in effetti con il calo che c'è stato fisiologico diceva Nobri Mkhitaryan c'è stato una crescita clamorosa di Barella che veramente ha fatto delle partite strepitose a livello di intensità e segnasse anche un po' di più qualche qualcuno che potrebbe farlo ma anche quello Hamilton chiama Vettel gli lascio la Mercedes Formula 1 a Suzuka e poi Maxi Caduta Vingegaard in ospedale fratture il ciclismo avevamo detto paesi baschi uno studio premia il lavoro di Angelozzi largo ai giovani il Frosinone è leader in Europa nessuno ha fatto giocare più under 23 di di Francesco domenica sfida al Bologna ecco la tabella di Motta per il traguardo Champions l'anticipo il Sassuolo alla Rechi venerdì sera quindi oggi Salernitana solo un'illusione con l'Antuono non molliamo quindi Salernitana Sassuolo che cosa succede in Salernitana e Sassuolo caro caro Alessandro perché se il Sassuolo si vuole salvare e adesso c'è la Salernitana poi il Milan l'Inter questa è un'occasione importante a Salernitana va a vincere va a vincere la Salernitana tanto Salerno è spacciato non lo so secondo me può andare a vincere ci sta e ammettere la verità sì stanti non mi è simpatico Sassuolo ma non ha che ho sto accanimento come molti giù magari giustamente hanno ecco però non ti toglie il sonno la talvezza ho il derby nel mio mirino c'è il derby sperando che si concretizzi qualcosa di stratosferico anche per noi e non solo per loro perché la storia purtroppo mi ha dato tante delusioni a favore di quelli là allora la gazzetta risponde alla domanda dei gli ibernati lì come era il congelamento sostenibile Lucius no nel freezer i nuovi sono congelati nel frigorifero insomma alla fine la gazzetta dello sport di domani oltre alla grande paura ciclismo shock binghe garderischi e il tour con questa caduta ai paesi baschi terribile caduta il danese si rompe clavicola e costole fratture fratture anche per even e pole è incredibile questa storia come quando si cade a bicicletta tutte le fratture alle clavicola purtroppo per i ciclisti è un po' cose cose viste ma ripeto sull'Inter invece caro Alessandro c'è la risposta al freezer sei pronto al congelamento? vai poi c'è da dire anche questo giochino mediatico dei tre giornali sportivi italiani da una parte tirano contro Corriere dello Sport è tutto sport e li bilancia un po' devo dire la gazzetta dello sport che invece anche io dico a volte anche essere neutri in Italia sembri molto pro interista se sei neutro alla fine dice delle cose a volte per esempio quando c'è stata la sentenza su Acerpi dice non ci sono prove in una prima pagina pulita neutrale di sentenza di cronaca è sembrata una roba interista perché dalle altre parti hanno invece sostenuto che nella sentenza del giudice c'era la frase razzista che nessuno ha sentito ma non voglio riaprire questo capitolo assolutamente triste allora eccola qua la gazzetta di domani vi ricompro vi ricompro sono Autaro e Barella vedete con la foto di Zhang che aveva già dato un segnale come vi dicevo a novembre con i rinnovi di Ausilio Bacin dello stesso Marotta e però i più diranno adesso ma come può Zhang se lui il 20 maggio ancora non si sa accordo vicino con il fondo OCTRI così l'Inter accelera sulle firme dei due big vedete continua la lotta il Corriere lo Sport ci ha fatto dieci giorni su OCTRI che ha detto no la gazzetta hai aspettato aspettato dicendo che c'era più possibilità e domani esce con accordo vicino con il fondo OCTRI ma a te non ti ha stomagato un po' sta roba io non ce la faccio più però tu che segui Interfan TV lo sai che io sono sempre rimasto aperto alle soluzioni spiegando gli scenari come possono essere aggiornando sulle novità per esempio quella che OCTRI avrebbe continuato a far lavorare Marotta o senza avrebbe continuerebbe a far lavorare Marotta Antonello e Ausilio Baccin anche se dovesse restare se dovesse entrare insomma il fondo nella gestione che sarebbe comunque una fase di transizione ma soprattutto sempre sottolineato vedete che Zang vuol rimanere vedete che all'Inter si parlano tutti i giorni dirigenti col proprietario e anche Marotta ha detto che vuol rimanere ora magari non riesce a trovare la soluzione però approfondendo tutta la storia molto ma tu cosa pensi cosa potrebbe succedere visto che siamo approfondendo tutta la storia molto misteriosa e nebulosa a volte veramente misteriosa cinese perché lì gli incastri sono molto eh la matriosta eh non c'è capito cioè tu non puoi pensare di analizzare l'imprenditore di quel tipo di paese estrapolandolo dal paese quindi siccome i rapporti con eh i vertici della Repubblica Popolare Cinese sono buoni io anche per esempio la Corte d'Appello di Milano la sentenza possono aggredire i beni di Zang ma perché nessuno si fa la domanda tu sai quanto è passata in giudicato la sentenza che tu prima dicevi civile non penale ma sai quando è passata in giudicato a settembre duemilaventidue no? sì sì perché non hanno aggredito i beni di Zang da Hong Kong in Cina visto che la famiglia è lì che hanno le quote di Suning e perché? perché in Cina non sono intestate a Zang ma una banca grande come la China Construction Bank che è una delle prime quattro banche cinesi che ha una sentenza favorevole perché nessuno dice che c'è qualcosa di strano che una delle quattro banche principali cinesi si vuole rivalere su una famiglia di imprenditori molto importanti in Cina e anziché prendersi i beni di Zang in Cina perché vince la causa va all'estero e c'è qualcosa che non quadra io non ho tutte le risposte però però voglio dire se avesse voluto o potuto da settembre 2022 sono passati un anno e mezzo avrebbe già fatto non è che aspetta adesso il 10 aprile ci saranno gli altri titoloni di tutto sport sullo stipendio del presidente dell'Inter perché sai che c'è la prossima causa e che c'è una construction bank dice io posso aggredire i beni di Zang in Italia bene allora voglio lui è presidente dell'Inter quello che gli dà l'Inter l'Inter gli darà qualcosa all'Inter gli hanno detto no Zang non ha beni dell'Inter non ha lo stipendio dell'Inter quindi no ma non è possibile non è non è regolamentare secondo China ma dico io questi qua da Hong Kong vogliono dettare le leggi della costituzione di una società dell'Inter di Milano che ha sempre fatto così non ha dato lo stipendio al suo presidente cioè c'è qualcosa che non va se tu ti devi rivalere con uno della tua stessa nazione perché non l'hai già fatto in quest'anno e mezzo da comunque al di là di questo a me sembrerebbe strano che finisce con Zang che per non dare quello che è il prestito se ne esce perché non riesce secondo me lui esce quando valuta congrua l'offerta che lui sceglierà quindi io credo tra l'altro anche dall'Inter trapela di più questo scenario cioè Zang non verrà nemmeno nel derby Scudetto o Inter Torino se sarà perché ci sono delle necessità in questo momento per i rapporti proprio con la Repubblica Popolare Cinese di non andare da un'altra parte per delle logiche che sono difficili da capire il track evergrande ci sono delle situazioni in divenire io ho cercato di approfondire è molto complicato è molto complicato ancora oggi questa perché il track evergrande influisce perché Suning aveva dato 2,6 miliardi a evergrande per rimanere in piedi ma perché li aveva dati perché la politica proprio della Repubblica Popolare Cinese ti interviene è molto invasiva nelle strategie della singola azienda è un'altra cultura un'altra situazione non possiamo decidere noi come non possono decidere loro da una parte loro ci hanno rimesso 2,6 miliardi perché ormai l'immobiliare è andato a scatafascio con veramente un buco che c'è clamoroso adesso loro però dicono che vogliono ancora cercare di riemeni non so come ma al di là del buco è per grande dall'altra parte quando poi i problemi sono diventati di Suning perché se tu che già hai delle difficoltà per la pandemia contemporaneamente devi andare vai andare tu lo aiuto un altro come uno che capisci uno che sta affondando tu stai in difficoltà hai una difficoltà dici devi aiutare quello che sta affondando affondi pure tu affondi pure tu però lì hanno questi tipi di questo tipo di logica quindi io aiuto te ma non ti preoccupare che tu non verrai lasciato solo allora quando Suning ha avuto bisogno sono state proprio delle aziende statali guarda caso a tenere Suning.com non dico in vita ma hanno sostenuto sostenuto sostenuta molto adesso Suning.com sta riducendo le perdite non dico che come l'Inter che sta facendo un percorso di risanamento ma quasi riequilibrando di nuovo la situazione ripartendo un po' ristrutturandosi e stanno poco alla volta venendo possiamo dire ai tifosi che i problemi di Zhang in Cina non si riverseranno sull'Inter perché sono due cose slegate ma perché possono diventare indirettamente legate perché io sono sicuro che il sogno di Zhang è quello in qualche modo di venire a capo di questi problemi che poi sono diventati sempre più grandi non solo per la singola azienda non solo per la situazione diciamo di come agisce uno Stato che è un po' invasivo molto invasivo non un po' rispetto alle tue strategie ma la politica internazionale critica Medio Oriente Russia-Cina i rapporti Stati Uniti-Cina hanno portato nel piano quinquennale della Cina a una chiusura verso l'esterno mentre nel quinquennio 15-20 loro erano stati mandati come una mission andate nel mondo e diventiamo la prima economia mondiale conquistando invadendo un po' voglio dire quello che ha fatto l'Arabia adesso nel calcio la mission dell'Arabia 2003-2034 la Cina dopo la pandemia che nasce proprio ti ricordi tutta la polemica loro come anche Cannavaro raccontava i contagiati come erano molto più strettamente controllati c'era molta più una rischiavano la galera rischiavano cose lui diceva Cannavaro che quando andava all'allenamento venivi controllato quando uscivi di casa a metà percorso quando arrivavi e quando ripartivi a metà percorso c'era una cosa veramente è rimonitorato è rimonitorato quindi dico con la pandemia a livello di politica internazionale loro hanno dettato una chiusura una chiusura che vuol dire in questo momento su Ning o su Ning.com che è la diciamo il fiore all'occhiello all'interno del gruppo su Ning una politica che ti porta a non pensare all'espansione c'è la squadra di calcio e la parte media la parte comunicazione no io sto sul mio sto sul mio e cerco di rilanciare il mio peccato che però l'Inter non può e questo era scontato essere trattata come non so la squadra di calcio dello Jiangsu che ti ricordi quando dicevano tanti eh vabbè ma hanno chiuso lo Jiangsu da un giorno all'altro no non c'entra niente l'Inter ha un valore di più di un miliardo grazie anche al lavoro fatto dallo stesso Zhang e dalla stessa Suning dalla proprietà che ha scelto i manager ha strutturato l'Inter ha lavorato per la crescita del brand eccetera e mi sembra una cosa diciamo strana che dopo aver lavorato quando devi raccogliere i frutti siccome tu non puoi restituire il modo lo si trova o lo provi provi fino all'ultimo a trovare cercarlo io sono convinto che alla fine il modo lo troveranno ed è anche questo che trapela dall'Inter da quello che sono riuscito a raccogliere attenzione anche alle parole di Marco Bellinazzo che ha sottolineato più volte come non ci sia solo il piano OCTRI perché per esempio il Corriere dello Sport ha dato questa lettura pure tutto sport oggi è finito il tempo ormai siamo entrati nelle ultime 6-7 settimane un altro fondo non c'è c'è solo OCTRI OCTRI è il coltello da parte del manico OCTRI dice o rimani e vendi entro tot tempo oppure penso io a vendere arrivederci e grazie Bellinazzo la settimana scorsa pochi giorni fa ha detto guardate che mi risulta che ci siano oltre a Goldman Sachs anche Reini Group quindi lavorano contemporaneamente sia sul fronte OCTRI e sia sul fronte ci possono essere alternative OCTRI quindi siccome anche il Sole24ore aveva scritto dei gruppi i due gruppi che erano alternative OCTRI per fare un finanziamento da 400 milioni e chiudere la partita con OCTRI non capisco perché adesso siccome l'ha deciso quello dello sport è tutto sport che tra l'altro ogni giorno trovano un guai per l'Inter e titolano guai perché dovrebbero essere credibili sempre pronosticato la fine del mondo per me non sono più credibili dici vabbè ma te quello che ti dice l'Inter non conta perché l'Inter cosa ti deve dire no ma io raccolto quello che dice l'Inter quello che dice il collega che magari si occupa di politica internazionale segue di più il fronte geopolitico quello che segue di più l'aspetto economico analizzo i conti so anche che comunque Zanger non non ha nella testa di mollare perché non gli arrivi un'offerta veramente che lo faccia uscire vincitore anche dal punto di vista finanziario economico e quindi secondo me ad oggi continua a rimanere quella la l'ipotesi principale se poi in questo scenario lo sapremo tanto tra 45 giorni ci starà la strada all'accessione in due o tre anni cioè o nel duemilaventisei o nel duemilaventisette guarda caso quando scadono i contratti guarda caso guarda caso il bond guarda caso quando esci dal settlement agreement guarda caso quando avrai raggiunto il pareggio di bilancio nel duemilaventisei anche una data importante per Suning all'Inter i dieci anni di Suning all'Inter che potrebbe passare di mano al decimo anno con un Inter che ha vinto con un Inter che ha il bilancio in pareggio con un Inter che ha aumentato ancora di più i ricavi con un Inter che ha firmato il progetto stadio ha partecipato al mondiale per club e ha una situazione più simile a quella che è stata quella di Elliot quando ha venduto a Redbird perché oggi l'Inter ti fa vedere il percorso chi arriva oggi a comprare l'Inter vede un percorso che sta andando a risanare se tu arrivi nel 2025-26 vedi la chiusura del cerchio quindi secondo me anche Octree che non ha interesse a gestire il club può fare benissimo la strada alla cessione ma non ce lo diranno mai quello che io dicavo con Chirico l'altra sera che mi dice ah secondo te ti danno due o tre anni io ho detto allora intanto magari Zang dice tre anni magari Octree dice in un anno alla fine raggiungono l'accordo a due anni ma anche se fosse due anni non lo diranno mai sono accordi strettamente riservati perché? perché un compratore terzo Zang dice se io devo vendere e sto risanando e ti ho fatto vedere il programma Octree io vendo ma non lo dobbiamo cioè non lo postiamo dire ai 4-20 perché se no chi deve comprare quando arriverà il 2025 mi dice aspetto altri 6 mesi e faccio la trattativa al ribasso con Octree mentre lui giustamente ha valorizzato l'Inter e oggi ti dice io l'ho valorizzata e vale tot non vale strettamente il recupero dei 486 milioni più il bond non può valere oppure quello che dice Zidiacus che l'altro Giacomo diceva che io metto 100 i soci mettono 200 poi mi accollo il bond pago a Zang 300 milioni non ha capito bene perché Zang 275 sono diventati 386 è una storia che ha ancora è una partita aperta però ripeto la serenità del management dell'Inter è anche quello che ha risposto Marotta è sopra le nostre teste ma sento Zang tutti i giorni che stiamo programmando il futuro io credo che alla fine andrà avanti Zang e non ci diranno la durata di un eventuale accordo con OCTRI questo è secondo me lo scenario poi basta aspettare ormai il 20 di maggio e sapremo se vi ricordate tre anni fa l'Inter non stava pagando gli stipendi ma la squadra aveva fatto un accordo di dare fiducia perché poi li hanno pagati tutti a differenza di qualcun altro e allora arrivò il 20 maggio la soluzione del rebus arrivò il 20 maggio proprio perché infatti adesso il triennio è il 20 maggio e il 20 maggio Alessandro secondo me non è una data dove oggi pure là tutto sport mamma mia allora adesso bloccata la programmazione ma l'Inter sta programmando il 2025 bloccata cosa ha preso rischio i rinnovi con Barella praticamente l'accordo è quasi raggiunto con Lautaro si stanno continuando a vedere per una questione di bonus non bonus si stanno continuando a vedere si scade nel 2026 congelato niente ma congelato cosa congelato assolutamente niente il 20 maggio non è il 20 luglio 20 agosto o come quando Redbird prese il Milan alla fine di agosto il 20 maggio è perfetta come data perché tu anche se vuoi aspettare sei ancora nel bilancio 23-24 fino al 30 giugno e volendo puoi pure metterci una plusvalenza a giugno un paio di cessioni magari minori per chiudere anziché a meno 50 a meno 30 o a meno 40 il bilancio quindi io non vedo proprio il 20 maggio come un pericolo di niente già se nel 20 luglio era un po' peggio il 20 maggio è domani praticamente è domani e l'ultima giornata è il 26 maggio del campionato quindi tra l'altro le grandi europee prima delle finali non si muovono neanche quindi anche quello è da considerare allora chiudendo il cerchio con la gazzetta dello sport Juve senza riserve servono rinforzi da Ken a Milik perché Allegri non ha i ricambi e poi le stelle per la stella c'è capitano e vicecapitano Lautaro e Barella quindi accordo vicino con il Fondock 3 vi ricompro via libera di Zang Lautaro e Barella rinnovano così l'Inter accelera sulle firme dei due big Gilardino vede viola mercato allenatori quindi si parlava di palladino qui invece si dice di Gilardino svolto a Firenze italiano verso il Napoli e Gilardino palladino comunque sono allenatori che stanno facendo molto bene chi ti è impressionato di più di questa nuova leva tra Diagomotti Diagomotti italiano ma anche Gilardino palladino lo stesso De Zerbi si parla di trattative con il Bayern Monaco a Liverpool a Morim potrebbe essere il nuovo Murigno dallo Sporting Lisbona il Barcellona tra la soluzione tedesca come avevamo detto Frick ma anche Marquez la soluzione interna con Ciavi che potrebbe addirittura cambiare idea e alla fine restare insomma c'è il Valzer delle panchine che dovrebbe coinvolgere anche Manchester United Denag in uscita e Chelsea Pogettino che rischia quindi Conte che sta cercando un po' di valutare se però non valuta niente potrebbe addirittura anche andare a Napoli secondo me un altro anno fermo non rimane qual è la tua impressione sia su tutto questo quadro che ho fatto sulla scadenza 20 maggio e sia su questo Valzer e sia sul Valzer degli allenati magari facciamo prima Valzer allenatori così poi ritorniamo sull'Inter Transipatino Palladino Dezerbi Tiago Motta sono allenatori che dalle belle speranze ma poi bisogna vederli comunque alla prova del 9 la squadra importante con pressioni importanti pressioni più grandi e via andare Palladino non mi piace mi piace di questi qui Dezerbi anche lui Dezerbi voglio vederli in una grande perché allenare le piccole realtà con giocatori che danno tutto per tutto per andare a giocare nelle grandi club sì fino a un certo punto mi piacerebbe vedere Motta te lo vedremo secondo me alla Juve l'anno prossimo 90% la mia impressione però di questi qua ti dico scelgo Motta quindi Tiago Motta sì sì mi piace anche se è un po' un rozzone che non ci ha salutato ha fatto un po' il cafone però ti dico quello che mi piace di più perché lo vedo un ragazzo di polso e oggi l'allenatore vale molto secondo me rispetto agli anni passati io credo nella disciplina credo secondo me è un allenatore molto di pugno capito mi piacciono gli allenatori così a me poi a livello di gioco non mi dispiace vediamo eccolo qua la porta che vuole convincere Xavi a rimanere? la porta intenta convincere il tecnico per la continuità è una persona chiave per il progetto sportivo dice il presidente del Barcellona e quindi vedremo adesso anche con un po' di rimpianto Barcellona Paris Saint Germain chi vince affronterà Borussia Dortmund Atletico Madrid dall'altra parte ancora Real City e chi vincerà contro Bayern Arsenal quindi questo scrivono i giornali catalani mentre Marca parla della finale di Coppa del Re che si sta avvicinando tra sabato il 6 tra Mallorca e Athletic Bilbao ecco qua fabbricando un sogno e quindi una finale che vede in altri paesi per esempio c'è sempre una sorpresa è una big Paris Saint Germain Bayer Leverkusen sono in in finale tra le big intanto anche il Liverpool che si riprende la vetta con Super Mac Klopp Stars Maniz e quindi volano i Reds ma il campionato è ancora apertissimo perché gli stacchi sono minimi è l'unico campionato veramente aperto 70 Liverpool 68 Arsenal 67 Manchester City due punti l'Arsa e tre punti il City da recuperare da recuperare Liverpool che ha vinto 3 a 3 a 1 3 a 1 e quindi abbiamo visto prime pagine inglesi prime pagine catalane prime pagine di Madrid per quanto riguarda gli allenatori un po' abbiamo detto di possibilità soprattutto di Xavi quindi di di rimanere Amorim potrebbe andare a Liverpool abbiamo detto Bayer Monaco attenzione anche davvero a De Zerbi o a possibili sorprese mentre Conte in questo momento aspetta aspetta vedremo se Manchester e United Chelsea cambiano e poi De Rossi con la Champions resterebbe il Napoli italiano favorito con Manna direttore sportivo la Fiorentina tra Gilardino e Palladino e e ovviamente dobbiamo dire anche il Milan perché la Juventus abbiamo detto Allegri o Chiacomotta il Milan Pioli che può guadagnarsi la conferma con un trofeo l'Europa League ma anche col secondo posto in campionato diciamo che queste queste due partite Milan-Inter e e Milan-Roma Roma-Milan è vero che poi se ti qualifichi in Europa League inizia il bello perché il Leverkusen e il Liverpool secondo te tra Milan Roma Liverpool Atalanta e Bayer Leverkusen West Ham chi sono le due tre favorite dell'Europa League ci metto sopra Liverpool ci metto sopra Leverkusen ci metto sopra la Roma no l'Atalanta no ci metto come il terzo quelli là ci metto perché comunque hanno sempre un culo clamoroso quindi con queste coppe loro sono abbastanza così però i favoriti non sono loro sicuramente la Roma lasciamo perdere perché comunque la Roma subisce sempre sto Milan lo subisce sempre prende sempre schiaffi quindi secondo me il Milan passa abbastanza facilmente vedi anche il Napoli l'anno scorso ti ricordi il Napoli straordinario tutto ha preso gli schiaffoni dal Milan loro sono così però mancava Osimena mancava ah no con noi mancava Leao sì sì comunque loro sono sono così a proposito di punte Camarda non sta rinnovando quindi potrebbe arrivare la big straniera a soffiare al Milan il sedicenne talentuoso la punta poi Dionisi potrebbe sostituire Palladino al Monza Dionisi Immobile e Lucano va alla Juve Michele se Allegri va via chi va alla Juve secondo te se Allegri va via Tiago Motta secondo me Tiago Motta perché Giuntoli vuole andare comunque su un progetto anche se Conte si offre ma Giuntoli vuole andare su un progetto dove può andare a mettere con i suoi uomini ma Anna va al Napoli lui si porta Pompilio che il suo stretto collaboratore era il suo stretto collaboratore alla Juventus più poi non tutti i collaboratori perché alcuni restano al Napoli tipo Micheli dovrebbe restare al Napoli alla fine invece Pompilio e poi Stefanelli dal Pisa dovrebbe completare lo staff alla Juventus quindi andare a risanare da meno 150 la Juventus nessuno vedi questo poi dice l'informazione nessuno dice che la Juventus deve sedersi al tavolo con la UEFA tu hai sentito un organo mediatico un giornale che sta battendo su quello nessuno nessuno questo è l'aspetto che inciderà di più sul mercato di Inter Milano e Juventus tra le tre che la Juventus si deve sedere con la UEFA a scrivere un settlement agreement che sarà pesante pesante perché mentre l'Inter ha già migliorato molto è passato da meno 245 meno 140 meno 85 e adesso va verso i meno 40 la Juve passa dal meno 123 dell'anno scorso al meno 95 della semestrale almeno non so quest'anno se sarà meno 150 o meno 180 e questo la forbice si ma non ha fatto neanche la Coppa Campioni e ho capito che adesso ritorna la Coppa Campioni il Mondiale per Club tutto quello che vuoi ma a partire da meno 180 con Vlaovic che prende 12 all'anno e dice che vuol restare con Chiesta che ha un anno dalla scadenza e Bremer che ti offrono 60-70 milioni perché hai messo la clausola cioè se togli Bremer da quella difesa su chi si regge sta difesa gattino il centrocampo non c'è e la difesa togli Bremer non è facile essere competitivo io a Pioli chi prende il Milan sul Milan è molto più complicato perché lì ci sono delle anime l'anima Ibrahimovic che secondo me sarebbe più concreto pragmatico e poi c'è l'anima degli algoritmi cardinale questa diciamo proprietà che è un po' più esterofila infatti si sono fatti dei nomi da Lopetegui o nomi di allenatori bravi che però non è che conoscono così bene il campionato italiano secondo me il Milan fa bene anche se non vince l'Europa League a confermare Pioli perché con Pioli prendono la punta questo centrocampista di rottura si parla adesso di Fofanà e un difensore per sostituire Kier con una cessione secondo me alla fine Meignan se gli offrono 70 milioni al Milan prendono Di Gregorio o un portiere forte con 20 milioni con quei 50 milioni e il Milan hanno chiuso a più 6 l'anno scorso prendono una punta a 40 e 50 che potrebbe essere quello del Bologna a Zilze Zilze è il loro preferito ma lì bisogna vedere se si scadena l'asta se si scadena l'asta sono in grado di andargli dietro a meno che il giocatore non gli dica voglio il Milan e basta ma non credo quindi la punta comunque ce ne sono tante sono tutti interessanti e comunque il loro Lautaro perché tanti interisti vedono Zilze o Sesco Jonathan David o Giocherest e noi perché non lo prendiamo ma loro stanno prendendo il loro Lautaro loro devono prendere il sostituto di Giroud cioè la prima punta la stella della squadra cioè una spesa costosa più devi dimostrarmi che con Fofanà e Ciao o chi comprerà indietro diventi una difesa da 14 col subiti anziché da 34 perché la Juve ne ha presi 24 ma non segna come l'Inter e il Milan che è il secondo attacco distanziato dall'Inter ne prende 34 di gol quindi queste sono le rivali per me il Milan se resta Pioli e indovina i due o tre pezzi che deve indovinare pure se toglie Mignan può lottare per lo Scudetto la Juve oggi è tutto un punto interrogativo deve cambiare tanto la Roma deve succedere un miracolo per lottare per lo Scudetto il Napoli deve succedere un miracolo perde Buriosi Man quindi l'anno prossimo per me è Inter-Milan poi quest'estate poco alla volta vedremo i puzzle come si completeranno qualche altra curiosità di mercato in giro anche per in giro per il mondo ecco il Milan ha anche Salma Kers 10 milioni riscatto del Bologna che potrebbe un po' fatti di risparmiare su Zirkze però Zirkze costa perché loro devono dare il 40% al Bayern Monaco allora dicevamo degli allenatori del Genoa del Monza del Barcellona avevamo detto ci sono anche le dichiarazioni di Joe Felix che ha detto vorrei restare ma non dipende solo da me non dipende solo da me così come Cancelo il Real Madrid caro Alessandro Giovane sta mettendo insieme una nuova squadra di Galattici Mbappé avrà il 10 poi c'è Hendrik che sta iniziando a segnare pure col Brasile in partite importanti potrebbe avere il 9 poi c'è Vinicius poi c'è Rodrigo che ha detto no chi ha detto che me ne devo andare io non me ne voglio andare e Bellingham questi 5 che sono tutti forti giovani così panno del Real Madrid secondo me Manchester City Real Madrid è favorito il City ma nettamente però con il recupero di Courtois che quest'anno ha avuto i legamenti fuori con il recupero di tutti i difensori da Alaba Militao che sono stati fuori con Mbappé e con Hendrik con centrocampo che comunque il giovane ce l'ha il Real Madrid diventa nettamente la squadra più forte del mondo anche sopra il Manchester City l'anno prossimo mamma mia e tra l'altro anche il difensore promettente Lenny Jorot del Lille è disposto anche ad aspettare il 2025 per arrivare a parametro zero a Real Madrid e vedremo se sarà un altro acquisto perché Real Madrid rispetto al Barcellona comunque ha programmato bene in questi anni senza fare mai il pasto più lungo della gamba Vinicius abbiamo detto resta che che ne dicano qua leggo che hanno scritto anche di squadre inglesi ma c'è anche chi è disposto a mettere come il Paris Saint-Giovan 200 milioni per Vinicius ma non credo che alla fine se ne andrà non credo proprio e poi ti ricordi di Sebaglios che era stato accostato all'Inter si hanno scritto in Spagna che il Newcastle potrebbe essere interessato tra l'altro famoso pif 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 il Newcastle quest'anno manco va in Champions League il Newcastle e forse rischia di non andare nemmeno nelle altre coppe e quindi vedete che non è mai facile compreranno l'Inter adesso si certo che voglio restare qui anche in futuro ha detto Isaac che è l'attaccante del Newcastle dove però insomma ci sono diversi interessi poi ci sono diversi centrocampisti della Real Sociedad che sono attenzionati sia dal Barcellona anche la Juventus tra Michel Merino Zubimendi proveranno Bruno Chimaraj che nell'orbita Paris Saint Germain ma anche i big inglesi ma il Newcastle proverà a trattenerlo però senza la Champions non lo so e pensate leggevo il bilancio del del ieri del del Brighton di De Zerbi 400 con le plus valenze contando le plus valenze è arrivato a superare i 400 milioni c'è il il Brighton c'è il bilanio di cavi come l'Inter e il Milan è vero che però molto hanno influito anche le plus valenze allora per il Bayer Monaco attenzione anche a clamoroso ritorno di Nagesman il contratto dell'allenatore classe 87 con la Germania scadrà dopo l'Europeo ma la federazione tedesca non sembra intenzionata a lasciare andare il suo selezionatore ed è pronta a prolungarlo parola del vicepresidente della Feder Calcio che è intervenuto al canale tedesco ha detto 360 media la federazione deve provare a prolungare il contratto di Nagesman se riuscisse a blindarlo per un periodo più lungo sarebbe un bene per il calcio tedesco stiamo parlando di un allenatore che ha avuto successo in tutti i club in cui è stato Oppenheim Lipsi a Bayer Monaco fare bene in tre diversi club è sicuramente un ottimo bigliattino da visita e io credo che l'Inter l'anno prossimo a proposito di programmazione deve mettersi come obiettivo quello di arrivare nelle prime otto nella mega Champions nuova Champions otto partite se arrivi nelle prime otto salti playoff di febbraio ti qualifichi agli ottavi e agli ottavi non affronti tutte le big perché sicuramente Real Madrid Manchester City Bayer Monaco arriveranno o primo o secondo o terza o male che vada quarta quinta sesta settima ottava quindi negli ottavi se tu riesci ad arrivare anche ottavo nel girone salti playoff e non affronti una big agli ottavi così puoi puntare pure ad arrivare al quarto di finale poi certo al quarto di finale ti capita la big poi dipende anche dal momento come sta in quel momento in campionato con il Milan ti giochi il campionato con qualche off-sider che sicuramente verrà fuori la Juve il Napoli la Roma e ovviamente la supercoppa ti sei già qualificato e si giocherà veramente non è matematico ma è quasi matematico cioè l'Inter si arriva prima o seconda non credo che arriverà terza va all'inizio di gennaio a fare la supercoppa che ufficialmente ha quattro anche se si sono opposte l'Inter si è opposta ma niente da fare si giocherà per i soldi ancora una volta più di 20 milioni di incasso pensa che hanno votato tutte le squadre della Serie A siccome a cascata prendono 500.000 euro pure le ultime in classifica tutte per sì vogliamo la supercoppa a quattro dici ma te ne importa è perché prende 500.000 euro un mese e quindi si giocherà all'inizio di gennaio in Arabia Saudita il Mondiale per Club invece alla fine della stagione in questo contesto in quest'estate se Turam e Lautaro pensano di fare le Olimpiadi secondo me hanno proprio sbagliato perché è una pesteria mondiale dal 26 luglio all'11 agosto tu sei in ritiro già dopo un'estate dove hai fatto la Coppa America l'Argentina o l'europeo Turam con la Francia che fai finisci l'europeo il 14 luglio o la Coppa America ma magari esci un po' prima il 7 luglio il 10 luglio e poi vai a fare le Olimpiadi quindi non fai le vacanze quindi poi quando le fai le vacanze agosto settembre e quindi salti la prima è una pazzia totale capisco che i giocatori dicano sì se mi chiama il CT vado ma poi l'Inter deve assolutamente dire di no perché lo può fare non sarei mai d'accordo a una partecipazione di Turam e Lautare alle Olimpiadi perché se no poi non ci lamentiamo se si fanno male se hanno i cali e sarebbe da pazzi solante la Supercoppa in Arabia con gli stadi mezzi vuoti Davide però la finale poi è stato pieno e sarebbe comunque il secondo anno poi hanno due anni dove possono cambiare e altri due 28 e 29 dove tornano in Arabia il 26 e il 27 possono cambiare probabilmente andranno in America dove ci sarà nel 25 il mondiale per club e nel 26 il mondiale per nazioni a 48 ci saranno nel mondiale America Canada e Messico i sedicesimi di finale dopo il girone quindi per vincere il mondiale per nazioni ci vogliono 8 partite non più 7 dalla prossima volta speriamo insomma che l'Italia stavolta dopo due mondiali saltati possa esserci Alexandro 6 milioni netti scrive Antonio Benedetto secondo me la finale sarà Roma Liverpool occhio a Lukaku in Europa League si trasforma ma non mi rispetterebbe la finale Roma Liverpool e tra l'altro potrebbero esserci così anche 6 squadre in Champions League italiane cioè 5 per il ranking e la setta se la Roma o l'Atalanta vincono l'Europa League e non arrivano nelle prime 5 avere 6 squadre in Champions League sarebbe veramente particolare ecco chiudiamo con magari ti faccio vedere la classifica eccola qua per nazioni no questa non è questa forse la giornata vediamo un po' se ce l'ho eccola qua dovrebbe essere questa allora Italia Germania Inghilterra Francia e Spagna con l'Italia che deve stare attenta alla rimonta degli inglesi e anche alla Germania cioè la Beppa sarebbe dopo aver staccato la Spagna che però ha 3 squadre in Champions League ah no questa c'era ancora in Vita Real quindi questa non è aggiornata scusate questa è quella prima del ritorno comunque l'ordine era lo stesso e l'Italia deve stare attenta al recupero finale di Inghilterra perché sai l'Inghilterra può fare Liverpool Aston Villa con Emery in Conference League la finale potrebbe essere Fiorentina Aston Villa come Fiorentina West Ham dell'anno scorso Liverpool Milan o Liverpool Bayer Leverkusen o Liverpool Roma o chissà l'Atalanta perché no in Champions League io dico City Paris Saint Germain tu chi dici Alessandro? Sì ma ci può stare la tua perché Paris Saint Germain deve eliminare Barcellona e una tra Atletico e Borussia ci sta sì ma mi hai convinto quasi sì sì ci sta ci sta ma e poi chi vince poi ma sai che il Paris Saint Germain l'ultimo anno di Mbappé non lo so secondo me il Manchester City può fare la doppietta ho visto i gol di Foden dell'altra sera sono veramente fuori classe assoluti sono forti Rodri è forte Foden è stratosferico Haaland viene criticato ma è fortissimo non vedo come nel doppio confronto il Real Madrid e il Bayern Monaco che sono le altre due superpotenze possano eliminare il City deve succedere qualcosa di di strano poi la Coppa può succedere pure quello il Paris Saint Germain che magari può zitto zitto arrivare in sordina in finale perché il Barcellona è battibilissimo e anche l'Atletico il Borussia il Borussia Dortmund secondo me elimina l'Atletico l'Atletico non l'ho visto granché con l'Inter secondo me l'Atletico quest'anno siamo stati più noi a sprecare mamma eh sì è un peccato veramente mortale anche considerando quella classifica famosa vedi dei fatturati che ci avrebbe permesso con un quarto di Champions vedi l'Atletico era quindicesimo e il Borussia dodicesimo cioè eravamo proprio nella nostra zona li eliminavamo tutti e due facciamo il grande salto e vabbè ci si riproverà l'anno prossimo visto che Inzaghi è lo specialista delle coppe sicuramente diciamo che l'Inter quando esce con City la finale è mancato poco con Liverpool 0-1 in 10 è mancato poco con l'Atletico addirittura i rigori diciamo che è sempre sul pezzo con Inzaghi la squadra quindi almeno quello diciamo abbiamo una garanzia di competitività da quattordicesimi nella classifica dei fatturati non è per niente scontato non ci si può lamentare caro Alessandro è stato un piacere è mio che ore sono lì qui sono le 3.50 infatti devo portare fuori il cane e voglia da mangiare no? che sono un po' così ok perché noi l'abbiamo fatta dalle 10 alle 2 invece c'è 10 e mezza poi oggi abbiamo iniziato tardi quindi 10 e mezza a 2 tu invece l'hai fatta dalle 4 4 e mezza alle 8 4 e mezza 8 esatto buona cena che temperature ci sono lì? ma adesso stamattina era fresco cacchio mi sono svegliato ho detto mamma mia l'aria è condizionata invece era fresco ci erano stati 18-20 gradi stamattina era freschino però questi giorni qua ce ne sono 25 26 24 25 26 ma quindi voglio dire mentre in Italia se vai al mare ad aprile non è che fai il bagno lì si fa il bagno già ad aprile? sì sì madonna sì 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 a voglia a voglia guarda c'è un palazzo di fianco al cinquantesimo piano dove c'è la piscina sono appena andate via un po' di persone vedi che c'è un palazzo quello lì dove c'è quella luce blu quella pianta è una piscina al cinquantesimo piano con la vista sulla baia la piscina pure a Milano a febbraio prima la piena di gente vedevo capito fanno il bagno prendono il sole ah no è bello adesso adesso il tempo da noi credo che comunque a maggio iniziano anche aprirsi lì i bagni anche a fine aprile magari però più a maggio maggio è il mese in cui si inizia a fare sul serio per la stagione quindi lo scudetto bisogna anzi voglio chiudere con l'immagine di Lautaro che è molto bella questa così ti prepariamo se dovesse essere il 22 anzi no facciamo la prima possibile il 14 siamo entrati nel 5 quindi saremmo a meno 9 se invece il 22 siamo a meno 17 se è sabato 27 siamo a meno 22 se il 4 maggio il 5 maggio siamo a preciso 30 giorni dal grande giorno il giorno dei giorni e l'inter ci arriva di nuovo al completo recuperati Arnautovic Sensi Carrosso Augusto De Vrij Quadrado chi più ne ha più ne metta per andare con i 73 mila di San Siro con il Cagliari 74 mila 75 speriamo davvero anche pieno il settore ospiti così grandi numeri vogliamo fare tutti i record anche lì ago e filo ragazzi ago e filo manca poco e non sarà certa Coppa Italia della Juventus un'Europa di Mila che poi tutto da dimostrare è questa cosa qui la seconda stella non è per tanti vedere una stella quindi godiamo il problema che quella che lautaro la maglia del 2021 era stata fatta pensando che avremmo vinto lo scudetto al primo anno di già capito ma è una cosa simbolica mamma mia che pedano il luogo proprio mamma mia pensa a cucirti quello nuovo dai siamo bravi anche l'avevo vista anch'io ma non l'ho detto ho capito ma quella maglia potrebbe essere anche la maglia dell'anno prossimo che cuce no perché non è stossio sfortunatamente non avremo più la maglia la maglia quella lì proprio era una delle maglie solo per lo scudetto era bella ma per il resto c'è l'inter deve essere nera azzurra nero e azzurro mischiato che fa venire fuori un nuovo colore arrivare terzi nel ranking sarebbe una beffa ma se la Juve arriva a quinta e può succedere potremmo essere stati noi a non fare qualificare la Juve ma comunque da sportivo italiano vorrei 5 scuola però questa è bella e perfida questa di Benedetto ti piace? c'è l'inter minata con l'atletico se la Fiorentina non arriva in semifinale l'Italia quindi è terza nel ranking non qualifica la quinta e quinta arriva la Juventus sarebbe veramente clamoroso lì avrebbe avuto un senso un senso un minimo esatto noi dobbiamo non dobbiamo giudere sfortune degli altri pensiamo a noi pensiamo a noi ne abbiamo tante quest'anno di fortuna dai avanti tutti ecco la prossima volta caro Alessandro ci collegheremo con la Mongolia da Ulaanbaatar qui fa più freddo dice l'amico dalla Mongolia dice perché non fa una diretta con me va bene caro Mongolia Live scrivimi e organizzeremo la diretta dalla Mongolia dove fa più freddo esatto perché siamo fratelli del mondo con un tifoso dall'Australia un tifoso dalla Mongolia un tifoso dall'Europa e un tifoso dagli Stati Uniti esatto chiudiamo il cerchio un abbraccio buona serata buona sera a te a presto auguri a Silvana di un nuovo buon compleanno auguri a Silvana auguroni anche a mister Inzaghi iscrivetevi al canale fatelo conoscere ai vostri cinteristi nel weekend tra domani e domenica ci saranno un paio di video domenica mi ritrovate anche su Netflix se volete lunedì cronaca al processo di Biscardi dalle otto e mezzo Odinese Inter dalle undici e quarantacinque un po' prima di mezzanotte il post partita di Uvinese Inter buonanotte a tutti grazie ciao ciao ciao